bene passiamo al punto 2 1 il punto 2 1 nel punto 2 1 voi avete due modelli uno in pages e uno in word adesso tra l'altro li apro e ve li mostro poi ripartiamo da zero e li costruiamo a cosa servono questi questi modelli servono perché voi potete avere un riferimento per la vostra pubblicazione un riferimento strutturale sono dei modelli è un modello in realtà è lo stesso uno in formato word l'altro in formato pages è esattamente il modello che io utilizzo per costruire i miei libri dunque avete proprio un oggetto pensato fatto finito per questo scopo però voi dovete creare i libri con il vostro stile le vostre caratteristiche quindi pur avendo questi modelli a disposizione noi partiamo da zero nella impostazione di tutta la struttura del libro e poi abbiamo il testo cos'è qua no questo è un'immagine niente abbiamo il piccolo principe perfetto l'attività preliminare consisteva nello scegliere i no questa era l'attività preliminare dov'è che era vi avevo dato il testo del piccolo principe no dove eccolo qua nella biblioteca nella biblioteca avete il testo qua benissimo il testo dal quale partire quindi via il nostro classroom se ci sono cose osservazioni eccetera naturalmente intervenite che cosa facciamo facciamo così quindi allora io apro pages apro pages poi aprite pages aprite word e semplicemente prendo un nuovo modello un nuovo modello qualsiasi vuoto verticale questo è il modello dei libri ecco normalmente questo è il modello dei libri a impatto testuale perché il libro si legge così normalmente con una dimensione verticale più lunga di quello orizzontale il libri a impatto invece libri a impatto visuale normalmente si leggono al contrario cioè con una rappresentazione orizzontale più ampia rispetto a quella verticale cioè più cinematografica perché questo libro questo formato è migliore per la lettura del testo questo formato invece è migliore per l'interazione e la visione della grafica e della disposizione degli oggetti sulla pagina quindi siccome noi stiamo creando un libro a impatto testuale ecco che ci troveremo di fronte alla nostra pagina bianca che è questa perfetto poi che cosa faccio apro io l'ho aperto così in un'applicazione cina di testo questo di sent superi quindi prendo i primi due capitoli 1 allora capitolo 1 ma poi qua arriva al 3 quindi eccolo qua primi due capitoli io prendo i primi due capitoli voi avete scelto i vostri due ampliamo un po la visuale no così è troppo non mi piace perché poi non distinguiamo più ecco questo va bene e trovo in questa pagina il i miei due capitoli che appunto devo impaginare sono qui poi che cosa ho fatto si dimmi tutto noi possiamo iniziare a fare questo lavoro ecco giusto manca questa parte qua allora che cosa fate voi voi fate la stessa identica cosa che faccio io ok allora perdonami se ti interrompo potresti darci giusto il tempo perché per poter vedere lo schermo e assolutamente esatto certo assolutamente quindi il primo è chiaro quindi il primo step è semplicemente quella potete anche seguirmi seguirmi tramite non so uno smartphone un'altra cosa e poi utilizzare invece il computer per lavorare potete anche volendo fare una cosa così dallo smartphone comunque non si riuscirebbe a vedere bene il lavoro che tu proietti ah beh come volete certo sì sì d'accordo certo no ma adesso io procedo con calma le operazioni non sono tante dobbiamo prendere solo due capitoli sì esatto sì perché non stiamo a impaginare tutto il testo adesso qui abbiamo grosso modo un paio di pagine che poi diventeranno 4 5 anche di più per la nostra impaginazione perché ovviamente dovremmo seguire dei criteri di leggibilità eccetera quindi preparate i vostri i vostri capitoli e intanto io e intanto io ne approfitto per io lo dobbiamo incollare nella pagina di pages esatto esattamente e vedete che così avete semplicemente un testo che non è per niente impaginato chiaramente che è questo noi facciamo chi fa su word io sto utilizzando word come fa a copiarla perché lo apri lo apri con word lo apri direttamente con word poi cancelli quello che non serve nel testo tieni solo i due capitoli o lo apri con l'applicazione di text edit che avrai anche tu da qualche parte oppure lo apri direttamente con con word quello che è poi cancellate quello che non serve cosa aberto chi non ha scelto il primo il secondo capitolo ma altri due capitoli deve prendere anche quello che vuoi il titolo iniziale la dedica sì allora il titolo iniziale la dedica sì certo questo sì ve l'avevo scritto no mi sembra infatti per questo mi stavo ricordando di questa cosa quindi ti chiedevo per conferma sì quello sì perché perché siccome noi adesso studiamo sì ma no non per correttezza e nei confronti che no è solo perché così abbiamo l'occasione di vedere livelli di titolo di esatto brava molto intelligente si bene promossa poi vi ho detto cercate qualche immagine io ho creato ho usato l'intelligenza artificiale perché era qualcosa di un po più di un po diverso quindi mi sono immaginato un piccolo principe manga giusto così avere qualche immagine perché è molto importante il modo con cui le immagini vengono impaginate nel testo è assolutamente decisivo questo comunque come manga non è male il piccolo principe giapponese questo lo faccio io non è necessario che lo facciate voi ma nel caso vogliate potete potete aprirlo io adesso eccolo qua io adesso apro il modello che vi avevo consegnato prima visualizziamolo su una pagina così abbiamo la stessa la stessa impostazione del piccolo principe che è dietro è dietro abbiamo il piccolo principe qui davanti invece ho aperto il modello perché apro il modello perché vi faccio vedere subito dove vogliamo arrivare qual è il risultato noi vogliamo ottenere allora intanto intanto siete pronti avete copiato i vostri testi sì bene allora quindi adesso io vi mostro questa cosa che anche a voi apparirà nello stesso identico modo quale che sia l'applicazione di scrittura che utilizzate notate prima di tutto che cosa c'è nella prima pagina nella prima pagina se io faccio click esposto che cosa succede che io ho un'immagine nella prima pagina perché questo perché posso scegliere ed è molto comodo questa questa cosa che quando renderizziamo il libro in formato ipub avremo come opzione la possibilità di scegliere il fatto che la prima pagina del libro sia considerata come copertina cioè che negli store in tutti i canali distribuzione voi vediate questo in questo caso voi vedrete sia l'immagine di copertina vera e propria questo capire il podcast sia questo questa cosa che ho scritto sopra perché l'applicazione prenderà tutto ciò che c'è su questa pagina e lo trasforma in un jpeg che diventerà la cover del nostro libro da qui da qui che cosa deduciamo beh deduciamo che se noi scriviamo con la nostra applicazione di videoscrittura il titolo cioè facciamo un minimo di grafica sulla prima pagina certo sarà una copertina molto spartana niente di straordinario però pensate non so di realizzare anche semplicemente una dispensa con un bel titolone un po' di due colori ecco la prima pagina diventa la cover del vostro libro sulla cover poi spenderemo qualche cosa perché ci sono delle specifiche poi precise di pubblicazione della cover poi andiamo avanti io non voglio continuare per pagina dimmi voglio solamente dirle che io sono riuscita con Windows a dirti che con Windows sono riuscita a scaricare il cloud creando un account di Apple e adesso sto facendo su page su pages va bene ma visto che non ho mai usato quindi chiedo perché ma quando si lavora in modo web poi rimane salvato? si si automaticamente non hai bisogno di registrare tutto quello che fai è salvato come fosse un Google module praticamente si esatto certo ok interessante grazie prego figurati bene poi ascorriamo questo libro abbiamo il titolo poi abbiamo dei sottotitoli questa è una presentazione poi abbiamo di nuovo una copertina in piccolo come immagine più alcune specifiche per esempio l'ISBN qui la data di pubblicazione che è sbagliata che è 2024 non importa poi abbiamo l'indice poi abbiamo che cos'è da dove viene quindi abbiamo i titoli poi naturalmente continua la nostra impaginazione allora come è organizzata strutturalmente questa è la prima questione fondamentale da capire l'e pub procede attraverso una struttura che è definita per livelli come qualcuno di voi diceva quindi significa che ogni capitolo ogni 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 sezione è organizzata attraverso uno stile quindi se io faccio clic per esempio qui in pages nella colonna di formattazione lo vedrete in altre applicazioni lo vedrete in un altro modo ma vi viene indicato che cosa lo stile di paragrafo che viene utilizzato ecco quindi che abbiamo creato una serie di stili tutti questi stili che voi trovate qui e naturalmente insieme ad altri perché word o la vostra applicazione ne proporrà anche degli altri di default ma tutti questi stili sono quelli che compongono le varie parti del nostro testo se non si segue questo metodo l'e pub non è non sarà corretto per esempio non sarà validato e quindi non può essere pubblicato allora ecco che cosa facciamo in questa prima parte di pomeriggio dobbiamo creare la struttura in stili e guardate quanti ne abbiamo ne abbiamo un tot perché ne abbiamo un tot perché ogni sezione del libro deve essere contraddistinta da un suo stile specifico quindi per esempio questo sarà il corpo lo stile corpo infatti abbiamo lo stile corpo del testo vediamo come è fatto lo stile corpo del testo lo stile corpo del testo in questo caso è un Giorgia poi entriamo nel dettaglio di queste cose un Giorgia di ampiezza 13 con un interlinea 1 2 uno spazio prima del paragrafo di 6 punti dopo il paragrafo di 3 punti vediamo che cosa le specifiche di questo titolo che è il titolo tipico dei capitoli quindi abbiamo un poppins grassetto 20 punti interlinea 0 9 e prima del paragrafo abbiamo 48 punti cosa vuol dire che prima del paragrafo ci sono 48 punti vuol dire questo che tra la fine di questo paragrafo e l'inizio di questo quindi la fine di questo e l'inizio di questo c'è uno spazio questo spazio in un libro e pub non è mai definito andando a capo adesso voi che cosa fate quando scrivete un libro voi fate così no? ho una cosa per la classe vediamo arriviamo a un punto facciamo così voi volete andare a capo e creare uno spazio battete un enter con la barra spaziatrice giusto? poi non vi piace volete distanziarlo di più battete ancora non vi piace volete distanziarlo di più battete ancora che cosa succede? succede che qui vediamo subito mostra mostra dov'è che è caratteri eccolo qua mostra i caratteri nascosti questo ce l'ha anche word questo è il simbolo di a capo paragrafo voi siete andati a capo semplicemente battendo il tasto enter questo non si fa mai non si fa mai vedete che qui non ci sono i simboli di a capo perché non ci sono i simboli di a capo perché questo capitolo gli abbiamo detto questo capitolo prima del paragrafo cioè prima della lettera u calcolerà uno spazio di 48 punti dal precedente tra l'altro non solo questo non si fa mai da un punto di vista editoriale ma vi consiglio proprio da oggi in poi di non utilizzare mai più questo sistema è un sistema che crea dei problemi vi faccio un esempio adesso io cosa faccio guardate copio questo questo pezzo va bene e lo incollo tre o quattro volte quindi che cosa ho ho diciamo un libro un testo i cui paragrafi sono distanziati andando a capo per un motivo qualsiasi mi seguite eh sì ok per un motivo qualsiasi quindi succede che io decida di cambiare la distanza di questi paragrafi cioè dica all'inizio mi erano piaciuti così poi ragazzi nella vita si cambia opinione quindi dico ma no mi piace invece che ci siano solo due paragrafi di distanza quindi torno indietro va bene ok peccato che debba fare questa operazione paragrafo per paragrafo oppure debba debba lo debba fare attraverso sti sistema di ricerca e sostituzione dei caratteri speciali vedete cioè non è un lavoro questo mettiamo che stiate abbiate 150 pagine impaginare così e dobbiate modificare tutte le distanze uno a uno e poi ammettiamo che tre settimane dopo cambiate idea volete trovare un altro sistema mettiamo che siete alla ricerca di un vostro sistema di impaginazione che cavolo fate cioè tutte le volte dovete fare questo lavoro non ha nessun senso quindi noi manteniamo invece un'operazione questa operazione attraverso la costruzione di stili e quindi che cosa succederà ecco che cosa succede decido che la distanza di un paragrafo rispetto al successivo sia troppo piccola all'interno del corpo del testo quindi che cosa farò scelgo lo stile corpo del testo eccolo qua corpo del testo va bene è corpo del testo sono sullo stile corpo del testo e cambio cambio per esempio prima del paragrafo lo porto a così l'aumento di molto per farvi vedere il risultato lo porto a 24 punti lo porto a 24 punti poi qui dove ci sarà corpo del testo potrò dirgli di ridefinire ridefinire lo stile in base alla selezione cioè dove si trova il cursore perché l'ho modificato quindi dico adesso guarda che lo stile è modificato tu devi utilizzare i nuovi parametri per tutti per tutti i paragrafi che sono stati formattati secondo lo stile corpo del testo faccio così e a questo punto guardate tutti i paragrafi del libro avranno questa distanza maggiorata tra un e l'altro allora è chiaro che io in questo modo posso fare degli esperimenti e posso veramente osservare una una impaginazione diciamo adatta però vedo che nessuno di voi fa la domanda fatale la domanda fatale è questa va bene ma se ci hai detto che il libro ha impatto testuale e ha priorità di lettura quindi il lettore può cambiare tutto questo come preferisce lui perché io devo fare questo lavoro beh io lo devo fare per una serie di motivi prima di tutto perché io mi trovo meglio a scrivere cioè voi autori vi trovate meglio a scrivere con un libro impaginato bene che non con un testo così o con un testo incasinato cioè si lavora bene nell'ordine e nella bellezza e quindi che voi impariate ad utilizzare gli stili e a scrivere e impaginare in modo ordinato questo è un privilegio che vi aiuterà poi a riordinare meglio le idee a scrivere meglio e ottenere migliori risultati secondo perché in ogni caso le specifiche che voi inserite qui se non sono cose balsane o particolarmente strane il lettore le tiene in considerazione quindi la prima visualizzazione del pubblico sarà più o meno simile a quella che voi avete stabilito nell'impaginazione e può anche darsi che al pubblico piaccia non abbia bisogno di fare grandi cambiamenti terzo motivo quando voi siete per esempio in amazon oppure in un altro store avete la possibilità di scaricare un'anteprima del libro questa anteprima a volte segue il non sempre però a volte segue l'impaginazione che voi o si avvicina molto all'impaginazione che voi avete stabilito quindi significa che potete offrire al lettore un'immagine dello vostro lavoro che è un'immagine professionale bella elegante che cosa distingue un'immagine professionale bella elegante di un libro da un altro beh soprattutto dagli spazi dal rapporto degli spazi bianchi con la pagina cioè scusate degli spazi bianchi della pagina con il testo quindi delle buone distanze dei buoni margini delle buone interlinea un'ampiezza di carattere che sia leggibile tutto questo fa sì che uno veda questa pagina e dice e possa dire è leggibile dirà è leggibile ma dirà anche è impaginata bene dirà anche l'autore di questa pagina è un professionista quindi immagino che anche il contenuto sia all'altezza se voi presentate una brutta impaginazione potreste essere anche gli scienziati più strafighi del mondo ma la prima impressione che date al lettore è non è così positiva è vero anche il contrario che potreste essere degli imbruglioni patentati che però capacissimi di realizzare delle cose stratosferiche per gli occhi e quindi va bene però non è così no giusto speriamo che non sia così ok allora capito questo applichiamo i nostri stili al piccolo principe tenete conto che tutto deve essere uno stile questo è uno stile infatti questo si chiama corpo abstract nero vedete corpo abstract nero questo corpo abstract è caratterizzato dal fatto che deve esserci un bel po di margine da questo testo che è un piccolo abstract al primo capitolo chiaramente non può il primo capitolo essere subito incollato lì e infatti vediamo che dopo il paragrafo qui ci sono 80 punti di differenza quindi tanta roba poi notiamo che questi sono degli inserti degli inserti addirittura con uno sfondo colorato quindi questo si chiama corpo inciso scheda ed è anche un corpo rientrato il titolo di questo corpo scheda ha una barra sottolineatrice anche no c'era qualcuno che voleva intervenire ho sentito un fiato sul collo sì sono io Chiara Matteoli sì volevo sapere se io metto in uno stile uno spazio dopo e in un altro stile lo spazio prima nel caso questi due fossero in sequenza poi si sommano sì ok ok in che senso scusate non ho capito la domanda quindi la risposta sì che se io per esempio scelgo non so quello dell'abstract metto che dopo deve avere 80 punti e dopo per esempio ho il titolo del primo capitolo al quale avevo detto che sopra devo avere 40 punti sì ecco questi due si sommano quindi lo spazio totale viene di 120 punti una cosa del genere sì in questo caso Pages non fa questa operazione però tutte le applicazioni di videoscrittura si sommano ok grazie prego immagino che Pages dia priorità secondo come sono anche allineati nei suoi livelli sì esatto poi andando avanti le immagini le immagini sulle immagini c'è un discorso particolare lo vediamo nel momento in cui ne inseriamo una però la didascalia dobbiamo considerare anche di creare uno stile per le didascalie delle immagini e che avrà le sue specificità ovviamente perché la didascalia dovrà essere più attaccata all'immagine più distanziata al paragrafo successivo questo è un altro tipo di visualizzazione poi abbiamo gli HTML e che definiscono gli HTML non solo uno stile particolare ma addirittura possono definire uno stile di carattere perché alcune volte noi possiamo all'interno di uno stile di paragrafo inserire degli stili di carattere particolari in modo tale che per esempio vogliamo evidenziare delle parole e a questo punto poi basterà applicare a tutte le parole che desideriamo evidenziare quello stile senza necessariamente evidenziarlo stabilire il grassetto vedere se funziona tornare indietro eccetera 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 in questo modo sì scusami una domanda allora tu prima hai detto hai menzionato HTML immagino intendessi se all'interno del testo ci sono dei link ipertesto ok esatto perfetto però se fai poi l'associazione come dicevi del formato sì se cioè nel senso o intendi per lo stesso tipo di link cioè quindi non incolla il link di solito assegna solo il formato no sì no noi incolliamo il link adesso in un modo che poi vi farò vedere il forma il la formattazione di una parola o di un gruppo di parole all'interno di un paragrafo link compreso può essere fatta dagli stili di carattere questo era per distinguere gli stili di paragrafo dagli stili di carattere ah ok perfetto ecco avevo perso l'introduzione di questa differenza qua perfetto tanto adesso lo creiamo tutto no io cosa sto facendo sto solo illustrando come questo layout organizzato poi voi naturalmente create il vostro ma lo facciamo insieme partendo dal corpo del testo e poi via via tutto il resto ok perfetto ok però adesso dovete sapere che esistono anche degli stili di carattere oltre agli stili di paragrafo gli stili di carattere sono prevalenti sugli stili di paragrafo quindi voi potete inserire all'interno di un paragrafo determinati stili particolari vedete adesso abbiamo inserito questo stile particolare all'interno del paragrafo scusami la differenza tra stile di paragrafo e carattere è anche il fatto che il carattere non va a mettere i punti prima e dopo giusto? come sarebbe i punti prima e dopo? nel paragrafo tu quando dai uno stile di paragrafo assegni quanti punti prima e quanti punti dopo il paragrafo eh prego ma quindi per questo stile di paragrafo di carattere noi evidenziamo solo una parola due parole quello che è esatto quindi se io ho dieci link ogni link lo prendo e gli dico esatto esatto per esempio io nel mio libro l'ho cambiato perché non mi piaceva il colore azzurro con cui eh blu anzi era con il quale pages formattava i link delle parole preferivo un azzurro e quindi voglio cambiare tutti ma è stato un lavoro in più in realtà poteva andare bene anche il blu no? e quando tu dici che prevale vuol dire che se io faccio cioè dico quella parola è link poi imposto tutto il paragrafo quello lo lascerà link non lo cambierà il paragrafo non lo cambia tutto il paragrafo vedi tutto il paragrafo non lo modifica ma si modificano solo le parole selezionate alle quali è stato attribuito uno stile di carattere no questo ho capito ma se io adesso attribuisco quello stile di carattere a quel link poi decido che tutto quel paragrafo lo voglio riformattare deve diventare un altro stile ma quello resterà lo stesso così non verrà cambiato no non viene cambiato per niente vedi posso cambiare fare tutte le modifiche e poi è prioritario certo grazie prego no questo è un vantaggio proprio anche posso interrompere un attimo per chiedere una cosa a proposito sempre di questo il word permette di fare questa questa formattazione del carattere sì 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 ah c'è il modo perché io sapevo insomma dei livelli però questa cosa specifica per il carattere non so dove si fa tutte le applicazioni più classiche di video di video scrittura lo fanno adesso io non mi ricordo che sono tanti anni che non uso word e però lo fa di sicuro ok basta che tu fai una ricerca su google no stili di carattere in word e subito ti viene indicazione ok posso chiedere una cosa se sbaglio a scrivere non ci sono le freccette per tornare indietro ho visto c'è quando sempre pages le freccette per tornare indietro se sbaglio poi devo rifare ah sì tu no tu devi schiacciare il tasto il tasto ctrl z allora come fai con windows ctrl ctrl e z ctrl z con ctrl z con ctrl z torni indietro io sì ho un ipad c'è un sì quindi ctrl no se hai un ipad nell'ipad c'è il circolino classico che ti fa tornare indietro e questo non lo trovo aspetti ora ok non lo trovo neanch'io allora c'è non ho l'ipad qui aperto e connesso però poi se facciamo una piccola vabbè la facciamo la prova io perché ho difficoltà perché devo ricominciare tutto da capo se sbaglio cioè sto avendo un po' di difficoltà perché non trovo cosa no certo che lo fai al limite puoi scuotere l'ipad che è un altro sistema per tornare indietro lo scuoti fortemente e lo butto no no sul serio non sto scherzando ah sì sì tu lo scuoti fortemente ti appare una finestrella con scritto se vuoi annullare l'ultima operazione prova ok vabbè ora vedo allora sì perché effettivamente è molto difficile cioè mi trovo che devo tornare cerco le freccette ma non è no ci sono non mi ricordo dove sono perché non è una cosa che faccio e con il computer invece col computer sempre l'ipad c'è sempre mac sì control z control z col mac mi collega allora lì control v control c control z e control shift z sono le quattro i quattro tasti che consentono di ok grazie scusa scusa tornare indietro copiare incollare eccetera ok scusami ok va bene vediamo no figurati va bene ok adesso cominciamo la nostra impaginazione quindi se posso mentre per la collega ramponi nella scheda home su stili la freccettina piccolina in basso a destra e ti riconduce appunto alla gestione degli stili come se avessi la finestra del professore pian perfetto sì e questi sono tra l'altro identificabili se sono attive tutte le opzioni di visualizzazione con il simbolino a fianco al nome che ti dice se quello è uno stile di paragrafo o di carattere o altro certo ecco le operazioni di stile così le fai anche da pages per ipad così come le fai anche da word per un qualsiasi tablet naturalmente se si scrive un libro è più agevole così addirittura io uso due monitor perché se impagino un libro voglio vedere la doppia pagina poi sull'altro monitor tengo tutte le risorse da inserire gli appunti eccetera quindi però io lo faccio anche per professione quindi mettiamo che io cominci dal titolo è un errore questo è un errore e vi spiego perché dunque poi prendiamo anche questo facciamo finta che sia un titolo allora io ho cominciato a impaginare dei titoli va bene adesso che cosa succede che devo impaginare il corpo del testo eh però il corpo del testo io adesso devo andarlo a beccare tra un titolo e l'altro manualmente tutte le volte per modificarlo per stabilire cioè non funziona come sistema questo quindi io che cosa farò la prima cosa che faccio parto dal dal corpo del testo prendo tutto il libro tutto quanto tutto e stabilisco che creo un facciamo così di creo da zero e ignoro questi titoli questi stili li ignoro li creo da zero perché così partiamo dal in realtà potrei assegnare naturalmente un uno stile già impostato e poi andare avanti così però preferisco partire da zero quindi ne creo uno nuovo nuovo stile qua col pulsantino che è un nuovo stile come lo chiamo lo chiamo corpo corpo e in questo caso mi interessa distinguere dall'altro corpo che c'era prima quindi lo chiamo corpo normale che è il corpo del mio libro è corpo normale quindi adesso che cosa succede che tutto il testo che io ho evidenziato tutto completo va sotto lo stile corpo normale e la prima cosa che faccio è impostare lo stile proprio del corpo del corpo normale per una facilità perfetto sì no dimmi dimmi quello online è cloud pages sì e il pulsantino dove si trova potresti farlo rivedere un attimino dovrei aprire il pages tramite cloud però adesso ah ok fai vedere dal tuo magari magari è lo stesso perché non ho guarda che c'è il simbolo della formattazione no da pages online non crei un nuovo stile attenzione non crei un nuovo stile usi usi quelli che ci sono però li modifichi ok allora stavo procedendo nella maniera sì è un po più limitato è un po più limitato chiaramente però Alberto in quel caso lì tu crei crei il titolo il corpo stabilisci le specifiche e e poi utilizzerai non so word eccetera per metterlo a punto ma funziona funziona uguale allo stesso modo sì Alberto scusa ti chiedevo siccome io sto usando word e un tempo lo sapevo fare adesso questa cosa dei livelli insomma di titolo non so non trovo proprio il modo come si fa come si imposta quello anche con word bisogna partire direttamente da quelli già preimpostati e modificarli praticamente c'è stili su word se vedi se clicchi su home in alto e a sinistra poi clicca su stili e se vai ancora più sotto c'è una più prea stile ti ringrazio Isabella ti ringrazio tanto sto cercando anche io di capire come funziona perfetto allora chi ha dato questo suggerimento poi lo può scrivere lo può scrivere in chat perché poi io magari li recupero e poi crea una piccola pagina da mettere in classe comunque chi ha il metto può fare il discorso risolto c'è command c'è una farfallina command c command e z lo risolto non ho capito sull'ipad perché ho la tastiera diversa quindi scoprirò poi però sul mac l'ho visto sull'ipad mi devi lasciare aprire un attimo l'ipad invece sul mac già si è capito e l'ho fatto ok allora adesso procediamo con la creazione di stili procediamo nel primo stile lentamente con calma gli altri che abbiamo capito come il sistema andiamo un po più spediti quindi prima evidenziamo tutto il testo e definiamo lo stile corpo normale oppure applicate lo stile corpo che avete già all'interno dell'applicazione che cosa dobbiamo stabilire questo è importante allora prima di tutto non scegliamo non scegliamo un carattere bastonato cioè senza grazie questi sono caratteri appunto privi di grazie quindi determinano una maggiore difficoltà di lettura e anche per l'impaginatore non favoriscono l'occhio quindi sceglia io scelgo un georgia potete anche scegliere un times sono questi caratteri eccoli qua con le grazie vedete la differenza questo è un carattere con le grazie questo invece è un carattere bastonato bastonato e dritto così con le grazie invece ha questi a come si chiama questi orpelli che scendono o che eccedono il singolo carattere come per esempio bambini qui c'è un piccolo una piccola trattino sull'asta della b sulla cima della b il carattere con le grazie è un carattere che è leggibile meglio si legge meglio io ho scelto un annotate i caratteri sono decine di migliaia quindi io non li conosco tutti per nome no chiaramente però dovete rimanere su un carattere che è insomma un po' tondo ben visibile si legge bene con le grazie poi stabiliamo l'ampiezza del carattere non scendiamo sotto il corpo 13 eccolo qua questo è un corpo 13 può essere anche un 14 se volete se vi trovate meglio io per me diciamo anche per come sono abituato io 13 va bene poi stabiliamo l'interlinea l'interlinea è lo spazio che deve essere visualizzato tra una riga e quella successiva la spaziatura se potete scegliere il tipo di spaziatura scegliete una spaziatura di esattamente come riga qua spaziatura righe potete scegliere almeno esattamente tra le righe eccetera scegliete righe quindi una spaziatura calcolata in righe 1 guardate virgola 1 virgola 2 virgola 3 4 allora questo virgola 6 questa è una spaziatura tipica delle tesi di laurea per esempio noi scendiamo un po' una spaziatura di 1 e 2 va molto bene con un corpo 13 una spaziatura 1 e 2 va bene anche con un corpo 14 vedete fate un po' di prove anche con un corpo 14 1 e 2 va bene ma se aumento l'ampiezza del corpo però se aumento l'ampiezza del corpo poi devo aumentare anche l'interlinea perché altrimenti non c'è proporzione tra quanto il corpo del fonte è ampio e la leggibilità tra una riga e l'altra quindi la regola è che più aumento il corpo del di testo e più devo aumentare anche l'interlinea non in modo diretto è chiaramente quindi qui abbiamo un corpo 13 e un interlinea punto 1 5 è troppo quindi la assottigliamo leggermente la portiamo 1 e 3 con un corpo linea per esempio 13 se stiamo tra il 13 e il 15 un interlinea tra l'1 2 e l'1 3 sicuramente funziona vedete che l'interlinea 1 1 è troppo compatto non agevola la lettura ma non agevola neanche l'autore nella scrittura perché anche noi ci affatichiamo è mica solo il lettore si affatica anche chi scrive chiaramente o chi impagina quindi 1 e 2 va bene 1 e 3 è un po' troppo 1 e 3 non so se percepite proprio la differenza e vi rendiate conto che che anche un decimo di linea può essere troppo o troppo poco non so se avete questa percezione quindi in questo caso abbiamo cosa abbiamo abbiamo che tutto il libro è impaginato con corpo normale corpo normale a con queste specifiche però dobbiamo anche dire prima del paragrafo dopo il paragrafo scusa Alberto perdonami se io interrompo è sempre che cerco di tradurre poi in word quello che tu dici per il programma tuo quindi ho trovato la tappella per l'interlinea singola 1 e mezza doppia minima esatta e multipla sarà esatta sarà interlinea prova a vedere perché è esatta te lo dai in pica in punti scusa dove hai trovato l'interlinea perdonami allora guarda dalla scheda quella che hai mai indicato tu insomma qui dando il più poi sotto c'è in fondo a sinistra formato sì ok ok vado là paragrafo formato paragrafo paragrafo ti arrivo a vedere spaziatura e spaziatura quindi interlinea ti dà la scelta singola 1 e mezza doppia minima esatta e multipla se fai esatta ti dà il valore in punti in punti esatto scegliere una che sia e che abbia il valore in righe quindi 1,2 in questo caso se no appunti è più complicato in righe? sì ah singola singola valore e valore che cosa hai messo tu? 1,2 ah eccola qua ah ecco a me passa ok sì ah no allora multipla ti passa lui a multipla si benissimo allora in word è multipla Alberto io invece praticamente mi sfondo a default il cono mi sfondo a corpo normale come faccio a mettere corpo normale? ma che applicazione usi? Pages? sì Pages sì sì no tu vedi apri qua gli stili di paragrafo sì e tasto più qui in alto a destra crei un nuovo stile di paragrafo ah lo devo creare io sì oppure usi questo normale e gli cambi ah quindi gli metto corpo normale sì oppure usi il corpo normale che ti ha dato lui cambiandogli le impostazioni quindi concludiamo il discorso sulle impostazioni dobbiamo stabilire quanta distanza c'è tra la fine di un paragrafo e l'inizio di un altro quindi diremo che dopo il paragrafo facciamo dopo il paragrafo perché tanto lo spazio prima del paragrafo è definito dai titoli quindi diciamo dopo il paragrafo lo spazio può essere di tre punti diciamo tra i tre e i sei come piace a voi a me piace di più tre punti mi sembra già una buona cosa bene importa poi da una casellina non aggiungere spazio tra paragrafi dello stesso stile sì sì invece lo devo flaggare o no? no perché tu stabilisci che aggiungi uno spazio ah e stabilisci quale spazio è è uno spazio di tre punti in questo caso ok 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 tre quattro cinque insomma una cosa così quindi quella la dovrei flaggare solo nel caso in cui ho finito e dopo c'è un titolo esatto raggiungere spazio in più ok grazie bene queste sono le specifiche poi naturalmente il corpo lo lasciamo a sinistra tutto il resto non ci interessa per il momento stabiliremo poi magari un rientro della prima riga così ma vediamo vediamo poi in seguito adesso dobbiamo cominciare ad andare avanti o a scrivere o a impaginare scusa lo stile per il paragrafo lo stile per il paragrafo successivo sempre corpo normale no quello non ti interessa adesso ah ok perché sì vabbè ah perché tu sei in word ah scusami ma sì sì lo stesso sempre lui per il momento sì ok grazie poi invece per gli altri stili no dovrà cambiare ok quindi abbiamo il nostro stile di corpo normale però abbiamo evidenziato tutto il testo mi raccomando perché se ne avete evidenziato solo una parte poi tutto il resto non ha preso questo stile che cosa dobbiamo dire dobbiamo dirgli che lo stile di corpo normale ha proprio quelle impostazioni che noi abbiamo stabilito questo è importante ogni volta che facciamo una modifica su uno stile poi gli dobbiamo dire guarda che queste modifiche le devi acquisire quindi in pages qui sulla parte destra ho un rettangolino che chiede di aggiornare lo stile certo lo aggiorni sulla base delle specifiche e allora a questo punto basta è tutto corpo normale tutto il testo è corpo normale questa è una regola da ricordare ogni volta che fate una modifica all'interno di uno stile poi dovete dirgli che lo stile verrà aggiornato deve comprendere quelle modifiche che voi avete effettuato così tutto il testo automaticamente viene aggiornato questo sistema vi dicevo è utile non solo perché stiamo creando un libro ma per qualsiasi cosa voi scriviate d'ora in poi non dovete mai più fare una formattazione riga per riga paragrafo per paragrafo distanza andare a capo eccetera ma voi stabilite il testo normale quale deve essere in modo tale che tutti i vostri documenti siano impostati in questo modo poi quando abbiamo terminato questo lavoro creiamo il modello di questo documento e allora tutte le volte che aprirete Word, Pages eccetera voi sceglierete come modello proprio quello che oggi abbiamo creato adesso passiamo agli stili di primo livello per esempio il piccolo principe sicuramente è un bel titolo questo no? quindi creiamo però un titolo diciamo non un titolone che ha un titolo che sia leggibile quindi faremo così evidenziamo il piccolo principe e poi o modifichiamo lo stile titolo oppure ne creiamo uno nuovo io preferisco crearne uno nuovo e lo chiamerò titolo sezione perché sezione? perché dividiamo qualsiasi cosa che noi stiamo scrivendo in sezioni, capitoli, paragrafi e poi eventualmente schede oppure approfondimenti, allegati eccetera quindi avremo quattro livelli di struttura questo è il titolo sezione perfetto l'abbiamo chiamato così titolo sezione e adesso che il piccolo principe è diventato un titolo sezione ragioniamo cominciamo a vedere intorno alla quarantina di punti che cosa succede 40 punti va bene come sezione va bene direi che una quarantina di punti 45 no troppo forse 36 vediamo 36 punti va bene dico 36 punti dico anche bold cioè grassetto che si legga bene però non va bene il font il font non va bene perché non si distacca sufficientemente dal corpo del testo è un font con le grazie funziona in un romanzo va benissimo in un romanzo sono tutti scritti con le grazie tutti i titoli di capitolo eccetera eccetera però noi vogliamo approfittarne anche per creare un sistema un po' più flessibile quindi se mi seguite praticamente devo rifare un po' le operazioni per la creazione del titolo normale quindi del corpo del testo quindi sceglierò un font classico font senza grazie elvetica per esempio oppure l'arial sono anche molto come dire utilizzati a me piace il poppings il poppings è lo stile che io uso nel mio marchio perché nel momento in cui un'agenzia di comunicazione ha prodotto il mio marchio con la palette di colore abbiamo studiato insieme la cosa eccetera abbiamo scelto ovviamente i fonti, le dimensioni, i colori e così via quindi il mio è poppings Alberto perdonami se ti interrompo quindi il titolo deve essere di un font diverso rispetto al corpo del testo io lo consiglio un font bastonato molto diverso quindi uno bastonato per il titolo per tutti i titoli ok e poi il corpo del testo a sé stante io ad esempio questo poppings è l'angelo no certo perché poi alcuni font si acquistano quindi no scegliete non lo trovavo sì i font hanno un copywriter molto spesso alcuni sono liberi altri non copywriter come trovate dei font gratuiti interessanti però adesso non fatelo perché perdete un sacco di tempo e non andiamo avanti ma qui per esempio voi cercate in google cercate in google non sono un robot non so perché me lo chiedi sono sempre io cercate google font proprio così google font e guardate dove siete portati siete portati a google font browse font e qui avete l'imbarazzo della scelta perché sono tutti font gratuiti che voi potete scaricare scegliere scaricare scegliete la lingua scegliete la classificazione eccetera eccetera e sarete poi portati a trovare dei font che vi possano interessare però non lo facciamo adesso perché intanto è una cosa estremamente interessante che vi porta veramente a perderci un pomeriggio cercare font così quindi ve lo do come consiglio per l'acquisizione di font gratuiti adesso torniamo a noi quindi voi potete utilizzare non so un eldetica un aria quello che è scegliere una domanda prima hai parlato hai detto ci faremo quattro sezioni hai menzionato cioè lavoriamo prima per sezioni poi per titoli poi hai fatto dei già i livelli stiamo facendo dei livelli di titoli di stili sì adesso ci occupiamo del titolo di primo livello cioè il titolo più importante che è il titolo della sezione ok ecco questo intendevo dire questo è il titolo della sezione in realtà il piccolo principe non ha sezioni però noi le creiamo lo stesso non importa il titolo del libro è il titolo della sezione ok poi hai detto sotto le sezioni ci sono no hai fatto una sorta di scala gerarchica e volevo capire sì poi abbiamo tanto la sostanza tanto poi la riprendiamo perché creiamo dei titoli di primo livello di capitolo poi creiamo dei titoli di paragrafo e poi creiamo dei titoli di schede o di approfondimento quindi sono quattro livelli sono quattro stili di titolo e quindi sono quattro livelli di organizzazione del documento ok perfetto questo è il primo livello magari lo scrivo davanti cioè lo scrivo di fianco va bene qui siamo a livello di sezione ottimo tra l'altro vedete che scrivendo a livello di sezione è andato a capo e questo interlinea non va bene ragioniamo mentre il corpo del testo l'ho dovuto aumentare l'interlinea qui invece io lo restringerò quindi anziché 1 e 2 passerò a 1 e 1 1 0 0 9 addirittura 0 8 mi piace un titolo compatto mi piace che i titoli siano compatti quindi siamo sotto il livello di 1 siamo a 0 8 0 9 e poi dirò aggiorna chiaramente poi mi piace che questi titoli siano maiuscoli quindi sarà il piccolo principe e quindi sezione sarà così attenzione perché sia word che pagi sanno la possibilità di trasformare automaticamente un testo in testo tutto maiuscolo ma non lo usiamo questo sistema perché è un sistema che poi non regge nella creazione dell'ipub quindi quando noi vogliamo che un testo sia tutto maiuscolo lo scriviamo lo scriviamo proprio tutto maiuscolo poi Antoine Saint-Supéry come lo scriviamo beh gli diamo lo stesso titolo di sezione per il momento diamo lo stesso titolo di sezione poi ci ragioneremo oppure anzi facciamo così diamo il corpo del testo va bene e poi ci ragioniamo dopo alla fine come impaginarlo adesso però dobbiamo fare un lavoro se ci siete dobbiamo studiare una modifica ma sezione dobbiamo mettere quindi sezione no no lo metto io per farvelo capire voi lasciate sì noi lo dobbiamo quindi riscrivere il piccolo principe così maiuscolo sì il testi scritti in maiuscolo vanno riscritti in maiuscolo adesso però noi dobbiamo ragionare un istante sul fatto che ogni volta che c'è una sezione noi vogliamo che il libro vada a pagina vuota bianca quindi qui nel menu inserisci gli dirò inserisci interruzione di pagina da pages c'è anche un altro modo perché scusami Alberto mi è andata via la linea mi sono persa dieci secondi ma stavi sì adesso io voglio che il titolo di sezione vada pagina pulita pagina bianca ok sì quindi posso fare così inserisci interruzione di pagina va bene anche Word ce l'ha questo oppure nella sezione formattazione che è la cosa migliore da fare gli dico che questo paragrafo cioè questo stile di paragrafo inizia paragrafo in nuova pagina quindi se io faccio marco questo questa opzione e poi aggiorna quindi lui inizierà la sezione inizierà in una nuova pagina quindi se io adesso vado a capo chiaramente qua inserisce direttamente una nuova pagina non va a capo cioè nel senso che scrive qui al paragrafo successivo quindi devo stabilire che la sezione che questo stile di paragrafo inizia in una nuova pagina quindi perfetto l'ho aggiornato e siamo a posto adesso tutte le volte che io selezionerò un paragrafo e gli dirò che quel paragrafo è un titolo di sezione automaticamente andrà a pagina nuova e questa formattazione viene recepita nel formato ascolta aspetta un attimo e questa formattazione viene recepita nel formato e-pub quindi troveremo nel formato e-pub che il nostro libro andrà a pagina pulita a ogni titolo di sezione questo per noi è così non è niente di fondamentale ma è carino perché comunque mantiene una suddivisione visibile tra le varie sezioni del libro adesso il problema però è ritrovarlo sempre in Word dove sarà? non lo so voi ve lo scrivete e poi con calma lo cercate no quello che non sapete fare non importa voi lo segnate poi su Google cercate come si fa in tre secondi lo trovate e poi vi applicate su Word comunque è su inserisci e subito su in cima tra file modifica visualizzata quello lo so perché lo uso di pagina sì sì io quello lo uso normalmente il problema è se lo vogliamo inserire proprio nello stile cioè nella formattazione dello stile per inserirlo nello stile tramite pages io nella sezione di formattazione ho stile layout altro e in altro ho una possibilità di scegliere alcune opzioni questo purtroppo per la grafica page in 600 volte avanti a Word per la grafica e l'impaginazione sì certo niente da fare è molto più friendly sì è uno dei motivi per cui uso questa applicazione però adesso dobbiamo stabilire naturalmente un metodo tu che cosa farai tu ti segni le cose voi vi segnate tutto ciò che immediatamente non riuscite a risolvere lo segnate poi magari me lo mandate e anche con le soluzioni nel frattempo se le avete trovate e io poi le pubblico in classroom diciamo entro domani sera così domani avete la giornata per raccogliere le domande e trovare le risposte e così potete poi lavorare perché così venerdì potete mostrarmi poi le impaginazioni come le avete realizzate allora dedica questa è una dedica va bene questa è una dedica quindi prima di tutto questa dedica sarà con titolo guardate che cosa faccio sarà con titolo sezione perché così va a pagina nuova vedete piccolo principe e dedica titolo sezione però questa dedica così con questo titolone non va bene quindi guardate che cosa faccio la modifico abbasso il carattere lo porto a 15 tolgo il grassetto lo sposto addirittura a destra ma non aggiorno il titolo sezione lo lascio così perché lo lascio così ma intanto perché l'unico in tutto il libro a essere concepito in questo modo e poi perché ho bisogno che vada a pagina nuova quindi mi piace l'idea che tu hai il titolo del libro poi qui ci sarà scritto l'autore quello che è eccetera e poi a pagina nuova e la dedica ma Alberto non crei un nuovo stile che va a capo eccetera solo perché è solo una parola è solo quella occorrenza lì in tutto il libro se no faresti una cosa nuova ma certo esatto è solo quella e mi interessa che vada a capo qui è fine della questione e allo stesso modo procedo con lo stile del corpo qui che cosa faccio lo metto a destra lo rimpicciolisco lo porto a dieci magari lo metto in corsivo e lo tengo così cioè non sto lì a creare uno stile per una cosa che uso una volta in tutto il libro in board automaticamente però nel momento in cui faccio così mi trasforma anche il piccolo principe sì posso aiutare eh no non lo trasforma automaticamente eh sì purtroppo perché forse perché nello stile hai spuntato hai flaggato aggiorna automaticamente ah ecco aggiorna automaticamente infatti l'avevo fatto toglilo va bene e quello che chiedeva prima la soluzione l'ho già trovata è sempre lì nel paragrafo nello stile di paragrafo ci sono due schede se guardi in alto l'uno fa la spaziatura e l'altra è un approfondimento e lì trovi ehm antepone interruzione fantastico tu come ti chiami? eh Ferrari Tatiana allora Tatiana tu hai già trovato alcune soluzioni quindi diciamo così che le persone dovrai scriverle? no le persone che trovano più soluzioni riceveranno un regalo ma sì dai è simpatico copri trovi soluzioni eccetera io ti spedisco un libro tipo i 36 volumi della Tre Cane scritti a Corpo 9 su come si impagini un ipad chi è la suggeritrice? chi è la suggeritrice? Tatiana Tatiana quindi nella scheda che cosa ci sta? perché io trovo controlla righe solate mantieni con il successivo mantieni assieme una di queste? no e poi quella dopo sì è anteponinterruzione giusto? è quella? è quella ah è giusto anteponinterruzione ok ah ok e adesso te lo dovrebbe fare sì va bene questo è Leon Ward lo porto su così e pertanto correggo la mia dedica questo deve stare tutto dentro questo paragrafo quindi lo metto tutto qua dentro senza andare a capo ecco scusa per cercare questa cosa mi sono distratta quindi adesso questa dedica la stai gestendo direttamente dal corpo normale proprio perché è una cosa eccezionale sì esatto così anche per farvi vedere che si può una volta che hai creato lo stile inserire delle modifiche senza registrarle all'interno dello stile stesso oh vedete che qui c'è uno c'è un un a capo ci sono due no tre addirittura guardate ci sono tre a capo li devo togliere questi tre a capo non hanno nessun senso e quindi iniziamo così capitolo 1 adesso abbiamo lo stile di capitolo quindi quello di sezione abbiamo detto erano 36 punti quello di capitolo sarà più piccolo ovviamente di 36 possiamo cominciare con un no intanto col crearlo quindi creiamo il titolo tutti i titoli li nominiamo come titolo quindi sarà titolo capitolo poi quando chiederemo diversi stili di corpo li chiameremo corpo specificando poi dopo sì però consiglio a chi sta utilizzando pages dai cloud di non fare questo perché conviene andare per tipo sottotitolo altrimenti non salva cioè nel senso io l'ho provato poco fa e quindi conviene andare avanti con le altre soluzioni che lui ti dà ti dà tipo sottotitolo sì perché non c'è la possibilità di modificarlo e poi ogni volta col titolo cioè siccome ogni titolo non si può modificare come con quello che utilizzi tu conviene utilizzare quelli già presenti di default e poi modificarli altrimenti ogni titolo è un buon suggerimento ti va a capo con l'interruzione di pagina è un buon suggerimento viaggio anche tu per avere un libro omaggio grazie ok allora capitolo 1 capitolo 1 abbiamo detto che ho creato un nuovo stile stile di capitolo e cominciamo con non so 30 un po' 31 32 32 non è male non è male ora essendo un titolo di capitolo guarda che sta bene anche con le grazie però io insisto per cambiarlo per cambiarlo uso il mio solito poppins uso un poppins nero che si veda bene forse questo nero è troppo denso quindi userò un grassetto normale eccolo funziona meglio capitolo 1 spazio prima dunque normalmente spazio prima non ci interessa del capitolo perché perché anche il capitolo lo mandiamo a pagina nuova quindi inizia nuova pagina quindi non ci interessa avere uno spazio prima chiaramente però ci interessa avere uno spazio dopo perché il testo non può essere così attaccato a seguire e ci vuole anche un bello spazio facciamo una cosa che abbia proprio una bella diaria e quindi diremo spazio dopo il paragrafo vediamo con 30 punti cosa succede ma io direi anche vogliamo fare un'impaginazione elegante particolare butta dentro 70 punti e vedi che lo spazio comincia a diventare interessante cioè se voi guardate questo testo vedete che comincia la spaziatura a essere a esserci anche il titolo di capitolo io lo terrei maiuscolo gli altri titoli livelli di titolo no ma questo magari sì anzi guardate sapete cosa vi dico io lo porto a 90 lo porto a 90 perché sento experì tanto è morto quindi non sa quello che sto facendo io inserisco un titolo di paragrafo qua perché altrimenti questo libro non ha molti livelli di titoli e quindi ne voglio inserire un altro tra abbiamo detto la sezione poi abbiamo il capitolo e qui ne voglio inserire voglio inserire un altro titolo per esempio proprio così quando avevo sei anni prendo proprio la prima anche voi potete prendere le prime parole del paragrafo che avete scelto quando avevo sei anni e qui inserirò un titolo di paragrafo quindi sarà titolo titolo paragrafo questo titolo paragrafo avrà le stesse identiche caratteristiche ma con un fonte più piccolo del capitolo 1 quindi cosa abbiamo scelto io ho il mio solito poppins e va bene lo portiamo a 23 24 vediamo com'è 21 no troppo portiamolo a 20 sì 20 magari 20 22 22 mi piace 22 non grassetto però non grassetto e anche qui dirò che dopo il paragrafo mettiamo una ventina di punti cosa succede 20 punti sì direi che c'è una certa proporzione no tra il capitolo quanto l'avevi dato in punti il titolo 22 questo qua capitolo 1 no quando avevo sei anni ah quando avevo sei anni gli ho dato 22 sì 22 poi 20 dopo e poi 20 dopo gli spazi dopo il paragrafo ok quindi titolo paragrafo lo aggiorniamo titolo capitolo ok anche questo aggiornato ok 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 Bene, se ci siamo Adesso dobbiamo inserire un'immagine qui a questo punto, perché io qui ho un'immagine, ti devi sempre spiegare tutte le cose, il mio disegno numero uno, eccolo qua, io ho questo, il mio disegno numero uno era fatto così. Le operazioni di inserimento di immagine sono piuttosto delicate, quindi terminate quello che dovete terminare e mi seguite con attenzione, poi cercate di capire con altre applicazioni di videoscrittura come funziona. Allora io voglio inserire un'immagine qui, va bene, quindi andrò a capo, poi dal menu inserisci, posso anche trascinarla così, però dal menu magari riuscite ad adeguarvi anche con le vostre applicazioni. Quindi inserisci, scegli e scelgo dove l'avevo messo, qua, 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 immagini, immagini. Adesso la prima che lui disegnava, non mi ricordo se era una pecora o un serpente, comunque prendiamo questa e la inserisco. Ok, abbiamo un'immagine. Eccovi la copia del mio disegno, però in realtà l'immagine sta qua, lui l'ha inserita in un altro punto, perché è un'immagine fluttuante. Vedete, vedete che si usa? Scusa Alberto, il formato, quale deve essere? Quello che vuoi, non c'è problema. ING, JPEG, uno leggero. Il JPEG è più leggero. Le GIF sono di bassa qualità, il PNG va bene, però rischia poi di essere troppo pesante se hai tante immagini. Il JPEG, un JPEG di buona qualità, devi tenere conto che l'immagine poi c'è, un lettore ci può cliccare sopra e quindi le ingrandisce e allora è bene che abbiano una buona qualità. Ok. Dunque, che cosa succede? Che in ogni caso, ovunque io abbia deciso di inserire l'immagine, PNG, se comunque un po' tutte le applicazioni, la inseriscono come immagine fluttuante. Vedete che se io la rimpicciolisco, per esempio, così, vedete che col testo che scorre incontro, intorno. Questo è ammissibile? Sì o no? No. No, perché no? Perché tra l'altro con l'ePub le immagini, appunto, potendoci cliccare sopra e ingrandirle, eccetera, vengono gestite in un particolare modo. Sì, però in realtà non va bene, non per questo motivo, ma perché è texture e flow. Quindi io questa immagine me la posso trovare anche dopo 30 pagine o prima, cioè non fluttua perché non mantiene l'impaginazione. Quindi che cosa devo fare? Attenzione, guardate che cosa devo fare. Seleziono l'immagine e devo fare in modo che l'immagine venga letta come se fosse un paragrafo. Quindi l'immagine deve essere agganciata al testo. Io ho queste opzioni, seleziono l'immagine, poi qui a destra nel menu formattazione scelgo disposizione, disposizione, poi posizionamento del soggetto. Non fisso, ma sposta con il testo e qui sotto scelgo in linea con il testo. Quindi sposta col testo, in linea con il testo. In linea con il testo. E a questo punto la colloco dove deve essere inserita. portando a capo ovviamente il paragrafo che arriva di fianco. Poi devo formattarla chiaramente. Però intanto, anzi no, era sopra, era qua. Ecco, qua così. Qua così. Adesso questa immagine è considerata era considerata un, è considerata una parte del testo. Viene trattata come tale. Quindi se il libro scorre, il testo scorre, e qualcuno ingrandisce l'ampiezza del testo, l'immagine è sempre questa, perché viene considerata come se fosse un paragrafo all'interno, cioè in successione con gli altri paragrafi. Dunque, ripeto, l'opzione in page se sposta col testo, in linea con il testo. In Word è uguale comunque. Questo io me lo ricordo. Sì, me lo ricordo che erano simili infatti. Col tasto destro appaiono le impostazioni dell'immagine, tasto destro sull'immagine appaiono tutte quante e sono subito lì. Questo è un'unica cosa. Sì, l'unica cosa è che se tu fai in linea con il testo, non ti lascia flaggare esposta col testo. Perciò sei costretto a fare incorniciato e allora ti fa mettere esposta col testo. Ok, va bene. Allora sarà incorniciato, la cornice sarà a zero, oppure metti un pixel di cornice, va bene. La visibilità delle cornice è compatibile con i pub, quindi volete inserire una cornice anche qui, lo potete fare, è compatibile con i pub. Non è una roba che si fa normalmente, però volete incorniciare l'immagine, va bene. Potete fare questi elementi grafici, vengono mantenuti anche con i pub, quindi casomai segnatevelo, sapete che si può fare. L'importante è che si flagghi, diciamo così, esposta col testo. Devi flaggare esposta col testo, altrimenti l'immagine chissà dove te la trovi. Alberto, posso chiederti come mai quando vado a inserire l'immagine me la mette tra il capitolo e quando avevo sei anni? Non lo so, le mette dove vuole. Voi dovete prenderla, selezionarla, stabilire che deve essere in linea con il testo e poi la spostate nel punto giusto. Oppure, altra soluzione, la con Mela X o Control X la tagliate e poi vi collocate con il cursore del mouse esattamente al punto dove deve essere e la incollate. Se fate questa operazione dopo averla formattata all'immagine, cioè dopo aver indicato quali sono le sue caratteristiche di essere all'interno del testo, scorrimento, eccetera, eccetera, poi la tagliate, la tagliate e la incollate dove volete nel punto esatto. Forse questo... me la rincolla sempre lì, anche se io metto il cursore da un'altra parte. No, è impossibile. Eh? Pigia bene col cursore. Giuro, guarda, posso fare la condivisione dello schermo. Dai una martellata. E poi mi prende Joker. Senti, ah, giusto. Lei ti ha stabilito proprio le specifiche giuste in linea con il testo, sposta col testo, eccetera. Allora, io ho fatto, scegli un file multimediale, l'ho incollato, e poi una volta che lo incollo, ctrl V, e niente, me lo do sempre lì. Che applicazione usi? Word? Oh, non ti sento più. Penso che... Lasciamo da parte un attimo questa cosa. Sì, lasciamo un attimo da parte questa cosa. Andiamo avanti con la formattazione e poi magari vediamo se si risolve questo problema. Così poi chiudiamo il sistema di impaginazione. Cioè, adesso io devo creare però lo stile dell'immagine. Va bene? che cosa faccio? Mi colloco con il cursore di fianco all'immagine stessa. Non seleziono l'immagine, perché sennò creo uno stile grafico. Lo stile grafico non è supportato. Devo creare uno stile di testo, perché abbiamo detto che a questo punto l'immagine diventa una componente del testo stesso. Quindi creo un altro stile di testo. collocandomi, vedete qua di fianco, adesso non si vede bene, ma qui il cursore è proprio qua, di fianco all'immagine. E procedo allo stesso modo, cioè creo uno stile, questo stile si chiamerà immagine. Quali sono le caratteristiche di questo stile? Allora, prima di tutto il corpo ci interessa poco, cioè il font, queste cose qua, le dimensioni non ci interessano per niente. E quello che ci interessa è lo spazio prima del paragrafo. L'immagine deve essere un po' distinta, quindi proviamo 18, per esempio cosa succede. Ecco, può andare abbastanza bene, 18. Mentre lo spazio dopo, attenzione, lo spazio dopo, lo dobbiamo togliere lo spazio dopo, perché ci va la didascalia, quindi spazio dopo 0. Spazio dopo 0. Perché sotto l'immagine mettiamo la didascalia. Quindi, ripeto, creiamo uno stile immagine che avrà uno spazio prima di 18 punti, va bene, 16, 18, 20, da ragionare un po' in base al vostro font. E spazio dopo, curiosamente, 0. Perché spazio dopo 0? Perché sotto inseriamo la didascalia dell'immagine. Adesso voi dovete sapere che la didascalia dell'immagine diventa obbligatoria, a partire da tra 24, 25, dal 26. Dal 2026 ci sono entrati in vigore, purtroppo, purtroppo perché dico che è una cosa mostruosa, questo è incredibile, che la legislazione europea si occupi di come devono essere presentati dei libri. E quindi, con il pretesto dell'accessibilità e dell'inclusione, questi hanno stabilito delle regole per cui l'autore non è più libero di creare come vuole lui i suoi libri. Pazzesco? Però è così? E naturalmente ce ne possiamo fregare perché non è che uno finisce in galera se non mette una didascalia o fa un'altra operazione. Però che cosa succederà nel tempo? Nel tempo succederà che gli store che poi pubblicano i libri non se ne chiedono esatto, poi non accetteranno più a mano a mano ci vorranno degli anni, magari 5-6 anni, però poi col tempo i libri che non sono conformi alle regole stabilite dall'Unione Europea non potranno essere distribuiti nei distorsi ufficiali. Penso che sia un'idiozia perché un conto è stabilito, non so, un libro di testo e vabbè, quello è chiaro, no? Ma il diritto di un autore di essere creativo e stabilire che un'immagine può essere così e che se tu la vuoi vedere la vedi se no ti arrangi cioè voglio dire fa parte delle regole dell'arte che deve essere libera e non può sottostare a nessun tipo di imposizione. Comunque noi andiamo a capo ma secondo me adesso non entriamo a fare cose politiche ma sono sistemi di controllo che poi permettono alle grandi multinazionali di riprendersi in mano a un mercato perché poi per l'autore diventa sempre più difficile perché devi seguire questa regola seguire quell'altra bla 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 no? E alla fine e quindi poi ti devi rivolgere di nuovo a loro esatto esatto secondo me la finalità è solo questa pagando la finalità è solo questa non esiste inclusione o cosa che tenga sono tutti moralismi che il cui scopo è di altra natura comunque questo come su tutto volendo sì comunque lasciamo perdere va bene così qui scriviamo la didascalia io scrivo proprio didascalia perché così sapete di che cosa si tratta didascalia piccolo principe in versione manga boh diciamo così quindi questa didascalia è nel corpo del testo quindi io adesso la evidenzio e creo proprio lo stile didascalia quindi per l'ennesima volta creiamo un nuovo stile lo chiamiamo lo chiamiamo così immagine didascalia adesso arrivo perché lo chiamiamo immagine didascalia perché io ho bisogno che tutti i titoli siano poi raggruppati nello stesso posto tutti i corpi siano raggruppati nello stesso posto tutto ciò che ha a che fare con le immagini perché poi diventa semplice per me andare a cercare negli stili quale è quello che mi interessa quindi io lo chiamo stile didascalia e ce l'ho qua e lo cambio in questi modi poi ti do ti do retta e finisco le impostazioni dello stile didascalia lo stile didascalia sarà bastonato quindi scelgo un boh non so un aria nelvetica insomma uno di quelli classici l'avenir l'avenir se l'avete è un ottimo carattere molto leggibile e piccolo allo stesso tempo e poi vado molto sotto col fonte andrò sul 10 una cosa così e poi prima del paragrafo vi dirò tre punti prima del paragrafo tutto lì proprio giusto un minimo per distanziarlo dall'immagine e dopo il paragrafo invece gli darò 20 punti vediamo che succede eccolo qua e poi gli dirò anche di collocarsi centralmente sia lui sia lui che lo stile immagine e poi l'aggiorno in modo che sia così e poi ovviamente l'immagine la ingrandisco quanto mi pare così abbastanza leggibile sapendo che comunque quando tu hai un ebook fai doppio clic e si allarga quindi non è necessario che l'immagine occupi tutta una pagina ecco questa cosa con Word non si riesce assolutamente a gestire infatti sì io sto avendo grandi problemi cosa non riesco a gestire allora immagini e la didascalia quindi poi no sì crei uno stile immagine collocando il cursore di fianco all'immagine non sopra non si può fare perché appunto siccome non ti dà il flow text cioè nel senso di metterlo appunto che scorra col testo a meno che tu non faccia l'immagine in un'altra versione che non sia in linea perché specificatamente in linea ti impedisce di gestirlo sì allora che altre versioni hai sentiamo ti fa per dire mettere incorniciato allora ti permette di spostarlo insieme al testo ma a quel punto però è come se lo leggesse come una nuvoletta con le sue proprietà alla quale tu non puoi fare nulla né applicare uno stile né niente eccetera e addirittura la didascalia si può inserire soltanto attraverso un tasto destro inserisci didascalia e a quel punto lui la inserisce con quella dimensione e se tu ad esempio ingrandisci l'immagine ma quell'alte quello non è la didascalia quello è l'alte dell'immagine quella è una delle cose inclusive che l'Unione Europea costringe a fare ed è questa quella poi l'avrei fatta adesso quando quando andiamo qua in immagine vedi che io qua ho descrizione sì ecco questo campo diventa obbligatorio tra l'altro e non è la didascalia è per chi non legge bene non legge bene o non vede bene immagini facendo poi i tap sopra l'immagine gli appare la descrizione ma io per esempio non voglio descriverla mettiamo che io sia un artista e crede alle opere d'arte non voglio mica spiegarle le mie opere d'arte o descrivere quello che c'è ti immagini? no questo sicuramente è che non so come gestire la didascalia no la didascalia tu devi semplicemente scrivere un paragrafo sotto normalissimo allora aspetta scusa Nora a questo punto invece che mettere incorniciato abbiamo anche in origine nel senso che il test a me me lo mette di lato qua non mi va sotto allora ascolta sai cosa l'unica secondo me è che sia la sopra e sotto sopra e sotto invece che incorniciato mettere sopra e sotto vediamo vediamo che succede si se metti incorniciato il testo ti viene tutto intorno ok la posizione si sposta tutto il testo per start intorno allora facciamo fate pure una prova tanto poi sai che poi tu vai avanti e ci perciare nel cercare nel disperare di sistemare questa cosa ci perdiamo ok con sopra e sotto funziona va bene poi dopo tanto quando apriamo questa cosa con pages per i cloud poi possiamo fare quelle piccole correzioni che servono per rendere l'oggetto compatibile dovrebbe funzionare anche con davanti al testo davanti al testo però non so a volte a me funziona ma non si però lo stile lo stile lo stile di immagine si crea semplicemente prendendo scrivendo scrivendo nello stile corpo del testo corpo normale scrivi proprio vedi come sto facendo io scrivo così didascalia ma io scrivo didascalia per voi perché altrimenti non si scrive ok scrivo piccolo principe come qua principe in formato manga benissimo e poi che cosa faccio questa riga che ho scritto a questa riga che ho scritto attribuisco lo stile immagine che quindi creo no lo stile immagine poi insomma te lo crei anche per il testo che deve essere usato come didascalia si esatto quindi poi diventano come due paragrafi cioè nel senso l'immagine il paragrafo e la didascalia e il paragrafo immediatamente seguente ok bravi non dovete usare la funzione didascalia incorporata nell'immagine dovete creare proprio un nuovo paragrafo esattamente come hai detto tu al quale attribuite un nuovo tipo di stile cioè vedi qua è lo stile immagine didascalia ah ecco si crea un nuovo stile sì certo crei un nuovo stile vedi guarda qua in alto a destra hai lo stile immagine didascalia lo stile immagine didascalia è fatto in questo modo cioè è più piccolo quindi 10 punti e soprattutto poi ha 3 punti prima del paragrafo una ventina dopo perché comunque deve stare un po' attaccato all'immagine no e poi dopo lo stile del paragrafo successivo c'è la distanza deve essere maggiore io però che sto usando su web page non c'è c'è stato scritto didascalia come stile non c'è il didascalia immagine no certo perché l'ho nominato io così ah ok tu usa quello didascalia e poi gli cambi le specifiche e se non lo uso perché non mi piace vabbè fanno un altro devo proprio che cosa avevi usato un bastonato avevi usato sì un bastonato vedi un bastonato molto leggero ma questo è l'avenir dovrebbe averlo anche Word tutti dovrebbero averlo l'avenir è molto è molto utile perché è un è una fonte molto semplice leggerissimo quindi non invasivo ed è molto adatto è molto adatto per didascalie tabelle note a piedi pagina cose di questo genere è estremamente leggero ma al tempo stesso anche molto leggibile quindi paragrafo nel 2 3 20 me lo fa fare 20 l'immagine l'ha data centrata tu di suo sì l'ho dato io ho centrato e l'ho inserito come attributo proprio dello stile quindi lo stile lo stile immagine e immagine didascalia è proprio centrato è proprio centrato ok sì le immagini è bello averle centrate non laterali stanno molto male e allora pure se gli ho dato lo stile immagine non me l'avete centrato cioè la didascalia me l'ha centrata quindi io mi sono fatta ah no perché giustamente questo è il formato immagine vabbè lo devo modificare ok quindi ah no se lo faccio così eh no perché ma cazzo ok adesso che cosa facciamo abbiamo scusami Alberto se disturbo dimmi tutto allora mi sono perso e poi ho ritrovato come si fa a tornare indietro basta andare su modifica e annulla inserimento e quindi mi sono perso un pochettino il passaggio dell'immagine come faccio un pochettino come faccio a stabilire come faccio a mettere quell'immagine a centrarle a chiamare immagine nell'aggiornamento che cosa stai usando io sto usando pages di mac va bene allora come inserisci l'immagine sì e guarda l'immagine o la trascini proprio direttamente dal computer la trascini su certo va bene oppure da inserisci scegli anche copia e incolla funziona bene vero anche copia e incolla certo o da inserisci scegli in ogni caso lui te la metterà in un posto che non va bene non c'entra a noi non interessa quindi che cosa farai selezioni l'immagine selezioni la tua immagine poi qui in alto dal menu formattazione disposizione ah ecco mi mancava questo questo dovrai scegliere sposta con il testo in linea con il testo perfetto perfetto adesso mi stemi poi dopodiché cosa fai la tagli mela x no la togli e la la vai a collocare nel posto giusto mantiene quelle specifiche che gli hai attribuito e quindi la incolli qui perfetto a quel punto aspetta un secondo a quel punto con il tasto destro del mouse a quel punto qui col tasto destro no scusami collocando il cursore alla destra dell'immagine creerai lo stile di paragrafo che si chiama l'immagine sì grazie mi mancava questo quindi non sotto non selezionando l'immagine ma collocando il cursore qua di fianco mi mancava proprio questo poi cosa fai poi vai a capo scrivi la didascalia va bene e a quella riga della didascalia darai degli altri attributi che saranno quelli che specificherai e comunque crei lo stile che si chiama immagine didascalia certo certo ok grazie molto di nada Alberto allora chiedo io perché ho ancora un problema sempre con Word e quindi chiedo a chi è riuscito a risolvere allora il mio problema è nel momento in cui io creo lo stile immagine quindi non la didascalia la didascalia mi va alla grande funziona nel momento in cui io creo lo stile immagine lui non me lo riconosce evidentemente come testo quindi non riesco a dargli il centrato non riesco a dargli un carattere cioè mi appare in grigio che non riesco a formatarlo allora tu riesci a collocare il cursore alla destra dell'immagine così ah ecco mi sono persa questo passaggio allora ecco vedi dove è il cursore qua no no non lo riesco a fare facendo quella cosa sopra e sotto questo non lo riesco a fare ah non lo riesci a fare eh te lo fa mettere confermo anch'io che non si può fare quindi voi non siete riuscite a centrare l'immagine no io sto provando come impostazioni ad esempio sopra ho selezionato separato così risulta sopra e sotto al testo è l'unica cosa possibile e poi l'ho centrata nella pagina cioè autonomamente insomma trattandola proprio come cosa autonoma non si riesce a fare dallo stile ma non si può fare no eh infatti cercavo va bene ci sono ci sono alcune cose alcune cose che con altre applicazioni non si possono fare e non importa Alberto scusate no no si riesce si riesce ah sentiamo allora vediamo come si fa dai ok allora vediamo chi vince un altro libro dai sentiamo dunque ehm ma così me ne devi due sono sempre io ah sempre tu sei a mazza oh dunque no Patrizia eh praticamente tu devi crea il paragrafo immagine prima di inserire la foto ah quindi metto un testo civetto togli la foto esatto esattamente togli la foto e crea un paragrafo immagine prima dove gli dai già anche il centrato wow geniale sei un genio ah ah ok questo sembra un insegnante caspita veramente no è che anche io ho iniziato nel 2000 a maneggiare computer grafica eccetera quindi un po' di cose ascolta quindi l'immagine la levo proprio e poi la rimetto dopo prova sì esatto così ok ok bene bene mi piace questa cooperazione funziona infatti uno di questi come diceva una dei nostri una delle allora scusate no 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 è dentro con se tu tra l'altro poi te la mette te lo mette lui in linea con il testo ottimo provo a vedere se ci riesci se no ma non voglio rubarvi troppo tempo eventualmente no no ma tanto questo è il tempo è il tempo previsto per fare questa impaginazione quindi no problem però scusami i co-word mi inserisco perché anche adesso finalmente mi hanno liberato il mio computer se io metto l'immagine e mi posiziono a destra lui in realtà mi fa impostare sì esatto e questo era ok ci sono riuscita ci sono riuscita ottimo ok perfetto ricordatevi queste operazioni magari le scrivete me le mandate così le posso inserire anche per chi poi per lo stile delle in che senso con l'immagine non vi funzionava perché se se io adesso io ho l'immagine già inserita su word intendiamo aspettate che me l'ho dimenticata e lui mi fa fare l'impostazione di un paragrafo mi dice di mi fa scegliere un livello e me lo fa impostare mi fa scegliere anche che sia impostato come predefinito perché poi dopo invece questo non funziona a me non faceva prendere proprio cioè una volta messa la foto sulla foto non riesce a calibrare il livello quindi non riesce a mettere per esempio il centrato a destra a sinistra cioè se tu parti esattamente se tu parti avendo cliccando la foto e quando quando lo è evidenziata c'ha i pallini no intorno e poi diceva di non cliccare la foto di mettersi a destra della foto e fare non lo fa fare non lo fa fare non lo fa fare il paragrafo lo imposti su un testo e tratti il testo come se dovesse essere un'immagine e poi una volta che ha impastato il livello insomma lo stile automaticamente togli quel testo civetta che ho usato per impostare e poi metti un'immagine e gli dai il livello immagine e così funziona se parti dalla formattazione partendo da un'immagine lui impazzisce non la vede non capisce che è perché evidentemente lo stile lo imposta sul testo pensa di impostarlo sul testo infatti ti volevo chiedere Alberto scusami questo sì dimmi c'è un motivo per cui Word fa questi a questo a queste caratteristiche perché i programmi Microsoft come anche altri oltre a Word hanno un misto di HTML specialmente poi Word ha un misto di HTML al suo interno e poi di programma specifico di videoscrittura per cui volendo combinare le due cose naturalmente ha delle funzioni di un certo tipo così ti volevo chiedere Alberto solo se a questo punto al livello immagine proprio dell'immagine avevi messo uno spazio uno spazio sopra perché comunque mi sembra un po' troppo attaccato al testo no no qua spazio non l'ho messo ah perché in Word si attacca praticamente quindi io qui nello stile immagine gli ho detto di stare a 18 punti di distanza prima del paragrafo ah ecco quello quello ok 18 20 22 insomma un po' questo varia in base all'ampiezza sotto no sotto ho messo ah sì zero in questo caso zero perché poi la didascalia invece avrà tre punti prima e 20 dopo solo tre punti zero no perché se no è troppo attaccato all'immagine quindi tre punti danno un minimo di agio e poi poi naturalmente quando si riprende la lettura il paragrafo deve essere a posto adesso funziona adesso funziona ok perfetto bene molto bene infatti uno dei problemi a cui pensavo mentre programmavo questo corso era che naturalmente pagis è un'applicazione che non hanno tutti anzi hanno una limitata percentuale di persone con un mac però è l'applicazione migliore per creare queste cose e mi chiedevo se si sarebbe potuto svolgere bene un corso contemporaneamente lavorando su più applicazioni perché potevo anche scaricare word però così avremmo perso troppo tempo sarebbe stato invece vedo che comunque con questa cooperazione funziona però detto secondo me ci sarà sicuramente qualcuno che poi sa sprausare bene altri generi di applicazioni quindi può condividere poi le sue no i suoi risultati vedo che funziona in questo modo funziona funziona allora adesso che cosa facciamo vedete che io qui ho mi risposero e c'è una citazione non va tanto bene per il piccolo principe però siccome voglio creare un sistema di struttura in livelli che funziona poi anche per altri libri io qui faccio così vado a capo vado a capo e creo uno stile citazione e qui sullo stile citazione ci sbizzarriamo perché adesso io creo nuovo stile citazione anzi scusate lo chiamo corpo citazione perché fa parte sempre degli stili che vanno sotto questa quest'area dicevo qui ci sbizzarriamo perché possiamo fare quello che vogliamo allora la citazione per esempio non so sarà in cursivo poi può essere distanziata un po' messi in evidenza magari 12 punti sopra e magari ne calcoliamo non so un'altra dozzina 9 sotto una cosa del genere poi non lo so la posso mettere centrata se a me piace la posso mettere a lato a destra per fare un po' il fighetto quello che si distacca un po' dalla cosa la tengo a sinistra posso inserire non lo so un un rientro per esempio 05 un centimetro di rientro oppure niente posso utilizzare un carattere più piccolo posso mantenere la stessa ampiezza ma cambiare cambiare il carattere in questo caso però non uso più un bastonato cioè un un carattere con grazia ma un abbastonato tipo lo stesso della didascalia lo stesso carattere per mantenere una coerenza ma con un fonte che sia almeno pari a quello del testo perché comunque è una citazione interna alla lettura che io sto facendo non posso interrompere radicalmente l'esperienza di lettura del lettore ecco qui vi organizzate davvero come preferite dipende anche dalla quantità di citazioni dipende anche dal tipo del testo perché un testo a carattere scientifico con delle citazioni così magari non lo metto in corsivo lo tengo così perché non mi interessa distrarre troppo il lettore si deve concentrare su una spiegazione logica quindi studierò delle citazioni che siano più funzionali alla concentrazione questo è un romanzo un racconto posso dedicarmi maggiormente alla bellezza all'eleganza della rappresentazione di un testo oppure scelgo una strada di maggiore continuità e quindi lascio tutto come era prima vado semplicemente a capo anche questo rimane un corpo del testo solo che lo distingo come citazione ecco come volete voi io creo questa così perché mi piace in questo caso distinguere un po' è avere uno stile un po' diverso dal solito come vedete non ci sono delle regole fisse ci sono degli equilibri da mantenere l'impaginazione è solo una questione di equilibri e di pesi tra i differenti paragrafi poi vediamo se devo fare qualcosa d'altro mi sembra di essere abbastanza a posto quindi con le citazioni create voi una cosetta poi vi aggiustate a casa così insomma nel tempo libero cercate di anche trovare anche per gli altri stili trovare il vostro il vostro stile che funziona potete anche cambiare colore capitolo 1 per esempio questa è una bella storia elegante un marrone non ci sta male per esempio l'ultimissima cosa di cui vi voglio parlare della formattazione sono alcune tipologie di carattere schede approfondimenti non hai qualche suggerimento che era un altro livello giusto manca manca il livello schede approfondimenti allora facciamo così allora qui ci va un'altra immagine va bene allora diciamo che adesso il piccolo principe sta spiegando il suo disegno questa parte qua boh facciamo finta che questa sia una scheda di spiegazione tanto come dicevo Saint-Supery è deceduto quindi non penso che la sua anima vaghi di notte per cercare chi manomette il suo libro quindi qui Alberto scusami io lascio un attimo la riunione perché mi si è oscurato lo schermo non riesco a vedere più niente mi disconnetto e rientro di nuovo va bene va bene certo ti ammetto subito allora che cosa faccio do un titolo scheda per esempio lo chiamo scheda punto oppure approfondimento oppure non lo so buttiamo l'occhio sapete cose di questo genere quindi stiamo creando uno stile di paragrafo diciamo così aggiuntivo qualche cosa che arricchisce il nostro testo è questo io ho scritto scheda punto spiegazione del disegno dunque solita procedura nuovo paragrafo questo è un paragrafo di titolo quindi sarà titolo scheda approfondimento dove l'ha scritto no copo normale uno non l'ha scritto niente va beh rifacciamo quindi questo è un titolo di scheda approfondimento eccetera cioè è uno stile che va bene per tutto ciò che c'è in più all'interno del nostro testo e quindi sarà sempre un carattere bastonato quindi uso al solito poppins va bene e poi sarà leggero se riesco se riesco a trovare per esempio il poppins ha molte varianti ci sono dei caratteri li cercherete poi in google che hanno molte varianti nel peso quindi vanno da nero a extra grassetto grassetto semi grassetto medio ecco medio potrebbe andare medio oppure addirittura leggero vediamo un po' perché forse anche leggero non è male leggero leggero allora lo facciamo anziché 13 14 un po' più grande e e poi posso inserire no ah devo stabilire naturalmente il solito prima del paragrafo quindi un po' non così tanto ma un po' vediamo un 12 corpo 12 com'è e dopo dopo vediamo un 6 non tantissimo un 6 perché essendo scheda il testo sta più vicino ok quindi questo già è qualche cosa che funziona però se voglio posso anche adesso vedete con word che cosa potete fare posso anche inserire una sottolineatura per esempio qui dunque dove era già bordi paragrafo in word io ho layout bordi paragrafo quindi posso scegliere anche una cosa puntini ma puntini però lo metto sotto non sopra e sopra lo tolgo quindi verrebbe una cosa così però lo scostamento dal bordo deve essere più piccolo quindi anche zero scostamento dal bordo sì zero scostamento dal bordo anche meno uno addirittura meno uno e poi vediamo un po' dopo il paragrafo questo punto siccome ho inserito una linea devo aumentarlo un po' lo portiamo a 14 quindi potete studiare anche dei risultati per quel che vi permette la vostra applicazione per creare un sistema di questo tipo come vi faccio a fare i paragrafi quelli colorati? i paragrafi colorati sì adesso lo facciamo perché poi quello che sta sotto sarà un corpo del testo a scheda quindi qui nel mio disegno non c'era un cappello creiamo un nuovo stile che sarà corpo del testo scheda e dunque faremo così cercheremo adesso qui cosa abbiamo utilizzato? un avenir? va bene sarà un avenir l'interlinea la riduciamo riduciamo anche il font lo portiamo magari a 10 11 una cosa così e poi voglio che però sia colorato qui ci sia un'evidenza di colorazione qui quindi quindi che cosa faccio in layout layout sotto in pages layout stile paragrafo qui posso dargli un color una colorazione per esempio un giallo di solito funziona molto bene perché giallo e nero hanno un buon contrasto però porto la trasparenza la porto giù parecchio la porto a 25 tra i 20 e i 30 vediamo un po' come funziona e questo appunto è il risultato non deve essere un color dobbiamo portare giù la trasparenza perché altrimenti il colore diventa troppo preeminente questo è il risultato poi che cosa faccio? scheda però così un vezzo di stile la metto in grassetto per esempio però lascio lo stile così com'è perché lo stile dominante è questo questo è solo un'aggiunta in più però per fare questa aggiunta io prendo questa questa scheda e creo uno stile di carattere eccolo qua stile di carattere e lo chiamo scheda avendo selezionato questa parola e creando direttamente lo stile di carattere l'applicazione ricorda qual è la formattazione di questa parola quindi non c'è bisogno poi che io faccio altre operazioni e tutte le volte che desidero creare una scheda e farò mi posiziono nel paragrafo scelgo come stile abbiamo detto corpo no titolo scheda eccolo qua e poi qui non l'avevamo aggiornato ops aggiorna quindi avevamo creato la linea sotto ma non l'avevamo aggiornato e poi qui non so sempre voglio che sempre sia scritto come scheda sceglierò stile di carattere scheda ed eccolo qua ecco cosa servono poi gli stili di carattere per non violentare Antoine e non farlo riportare nella tomba potremmo anche inventarci di mettere alla fine non lo so una scheda facendo finta non so questa è un'edizione per gli studenti una scheda didattica con delle domandine insomma brava infatti era quello che volevo fare poi siamo arrivati a quest'ora sono un po' stanco e mi sono dimenticato ma la scheda è proprio quella cioè l'idea proprio di creare le schede che avevo per oggi pomeriggio era questa perché poi effettivamente sui libri è così sì no è così è così esatto brava esatto beh allora pure io ho un libricino dai uno piccolino sì certo anche tu segnati il mio nome come no su sei Patrizia come no Patrizia certo ok scusami Alberto invece quella riga la devi fare proprio tu vero sì la devo fare io qui c'è un punto non si mettono mai i punti dove ci sono i titoli come come si fa sì guarda quale riga vedi che c'è questa riga puntini ah ok sì 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 no ok ok molto carina perché è una scheda quindi da tutto il resto della impaginazione quindi come la come crei questa riga in pages ti devi ricare in layout e poi layout sotto ai bordi paragrafo e scegli il bordo basso altrimenti tu lo potresti anche incorniciare tutto così ma non è carina questa cosa oppure potresti metterlo anche solo non so di fianco così però poi ecco lo devi distaccare anche così non è male magari aumentando un po' vabbè qui diventa un punto però se io scelgo un'altra modalità tipo questa eccola qua allora potrebbe essere così potrebbe essere potrei anche cambiare di colore vediamo con un azzurro che non è molto invasivo come sta va bene allora però anche scheda la cambia in azzurro scheda coloro in azzurro cioè a partire da questo momento in poi potete giocare con le vostre variazioni scheda la realizzo così e poi cambio lo stile di carattere lo devo aggiornare in modo che sia sempre così però a questo punto non stanno bene queste cose insieme perché o creo una grafica così oppure cioè qui devo cambiare il colore dello sfondo vanno studiate con una certa coerenza dei colori sì siamo nell'ambito del design praticamente sì ma allora ma allora però per fare questo aspettiamo di costruire un libro a impatto visivo perché non diventa più non è più un libro a impatto testuale questo cioè finché io aggiungo dei piccoli elementi di questo genere va bene come era prima no ma poi se devo studiare uno stile grafico di un certo tipo eccetera beh allora diventa un'altra cosa ecco in Word l'aggiornamento del lo stile carattere non lo fa in automatico no in automatico no voi che avete Word che versione avete perché io su certe cose mi ritrovo su certe cose non io ecco so avete quello XP l'ultimo o il precedente guarda io ho la come si chiama sono abbonata a Microsoft 360 perciò è sempre l'ultima cosa perché io invece ho una versione vecchia e non avevo fatto installare quella nuova perché trovavo che funzionasse meglio quella vecchia per esempio quella cosa dell'immagine del formato dell'immagine me la fa fare il mio anche io perché io parto da open office per quello quindi ci sono certe limitazioni per alcune cose quindi io sto cercando di abbassare quello che sta spiegando Alberto in base al mio programma di videoscrittura sono sincera sì ma certo proprio come l'ho capito no vabbè ma è giusto giusto ok fa quel che si può c'è no ma certo per capire siamo nella stessa base allora ho detto ma intanto ma piuttosto che arrabbiarmi ho detto vedo di fare con un po' di pazienza usando bisogna giocarci un pochino perché queste cose qua almeno per quanto mi riguarda l'impaginazione così meticolosa io non l'avevo mai affrontata quindi però esatto però è tutto saperlo anche perché così però in realtà se non si impagina così quando generi l'indice è un casino no non generi l'indice l'indice avevo messo in testazione titolo per poi fare anche l'indice multimediale ma quello c'è io questa roba degli stili ho iniziato a farla quando facevo le cose un po' prima quando facevo delle tesine delle ricerche alle superiori avevo bisogno dell'indice se no diventavo sì sì perché poi un indice su una tesi su un testo lungo diventa un inferno perché poi tu cambi qualcosa devi cambiare tutte le pagine esatto però tenete conto che la modalità di lavorare attraverso stili è rarissima rarissima sì giusto chi fa le tesi sì invece invece lo dovete fare cioè qualsiasi documento voi perché il problema diciamo così è all'inizio quando create i vostri stili che ci perdete un po' di tempo ma una volta che avete creato il vostro modello guardate io cosa faccio i modelli sono utilissimi e no fai file nuovo modello file nuovo e guarda che cosa ho io io ho io ho modello completo ebook storytelling poi ho template per creare foto poi ho l'altro libro orizzontale cioè ho creato anche qua sotto ho creato anche una serie di modelli qua e là che che utilizzo e e poi naturalmente faccio delle variazioni ma questo lo fai tipo salvando il formato di una cosa che hai già tutta formata no no adesso ve lo spiego ve lo spiego allora abbiamo le ultime due cose da fare mancano 5 minuti però se sforiamo di 5 minuti 10 minuti magari non c'è un grosso problema no che dite così chiudiamo questa parte giusto sì 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 allora io qua ho inserito una tabella per farvi vedere che l'e-pub è compatibile con la formattazione di tabelle quindi adesso io non vi sto a a inserire proprio non so in un punto del libro il punto del libro una tabella perché hai inserisci tabella oppure la inserisci da qua una tabella poi la formatti no la formatti creando i soliti stili quindi qui creerai uno stile che si chiamerà corpo del testo tabella che sarà un avenir di corpo 10 per esempio una cosa così va bene devi creare dovete creare lo stile se volete due stili uno per i titoli della tabella e uno per il corpo della tabella quindi vedetelo voi questa cosa perché adesso avete imparato a manovrare gli stili la tabella la tabella la dovete agganciare al corpo qua la dovete agganciare disposizione è come un'immagine quindi sposta con il testo in linea con il testo ma basta che la inseriate in un paragrafo ed è già così è già così quando l'hai inserita la tabella non è che fluttua in giro per il posto però controllate che sia agganciata al testo e poi niente la compilate come volete con i colori che volete sapete che dovete creare uno stile o due uno stile che normalmente è il corpo del testo della tabella e poi quel corpo lì basta dargli il grassetto diventa un titolo anche molto semplice non lo facciamo qua adesso perché presuppongo che adesso vi sapete orientare giusto? quella tabella Alberto scusami dove dove la creo? lì c'è uno spazio vero? sì qui ah ok perfetto ho visto sopra ti collochi in un punto qualsiasi poi qui hai tabella oppure inserisci e inserisci tabella per le note di pagina procedete come vi pare tanto le note di pagina inseritele pure come note di pagina ma con il loro stile sì con il loro stile piccolino usate lo stesso font io vi consiglio di usare lo stesso font della didascalia anche per le tabelle cioè in modo la regola è che in un testo noi non abbiamo più di tre fonte diversi normalmente due addirittura quindi due o tre al massimo quindi cercate di usare lo stesso fonte per più cose simili quindi didascalie tabelle e note a piedi pagina avranno lo stesso fonte le note a piedi pagina inseritele pure l'e-pub è compatibile non è compatibile con la nota piena di pagina ma non importa lui le prende e le mette tutte al fondo del libro perché non è compatibile con le note a piedi pagina è perché testa reflow come fa lui a sapere quando finisce la pagina non lo sa quindi le acchiapa tutte e le porta alla fine del libro però rimangono interattive se si fa click su una nota sul numerino 15 fai doppio clic o tap sul 15 lui ti porta la nota e poi torni indietro al testo quindi è molto comodo è molto comodo così Alberto il testo in colonna come funziona? no niente colonna non esiste i pub il testo in colonna ah è vero no e non esiste la divisione in sezioni non esiste testo in colonna non esiste divisione in sezioni infatti perché quello è solo il pdf lo puoi fare sì ecco tra l'altro scusami in che senso non esiste in sezioni cioè io non posso fare divisione in sezioni del testo? no i pub non ne tiene conto tu hai titoli funziona per stili di paragrafo quindi titoli eccetera ma non divisione in sezioni del testo sai che tu sia in word che pages puoi dividere sezioni e formattarle diversamente questo in e-pub non interessa non lo guarda quindi è inutile operare in quel modo invece mi ero dimenticato di dire una cosa perché all'inizio vi ho detto ci sono tre motivi per cui noi teniamo una buona impaginazione anche come autori e non ho detto il terzo il terzo è che noi scriviamo in questo modo con gli stili tenendo gli spazi giusti insomma visualizzando bene il documento anche perché a noi fa piacere poi lavorare su una bella cosa ma quando trasformiamo il testo in pdf questa è l'impaginazione che pdf visualizza quindi anche quando distribuiamo senza bisogno di pubblicare un libro anche semplicemente dandolo a qualcuno in pdf gli diamo una buona cosa allora ci sono le ultime due cosette da vedere perché una è la struttura di impaginazione globale e l'altra è la creazione del modello Alberto perdonami sì io proprio devo sei perdonata nella mia grande magnanimità ti perdono sì però non vorrei neanche perdermi la spiegazione come si fa? ma tanto la registro cinque minuti ok quindi posso riguardarla? certo assolutamente grazie mille Alberto stasera o domani al massimo la metto su ok dove la troviamo? in classe nella biblioteca perfetto ok grazie mille se il joker non la porta via non saprei no dai è un po' che non si fa sentire quando è così preoccupa ci da spaventarsi ok dai speriamo di no Alberto speriamo veramente mi sto quasi spaventando guarda sono il joker allora sentite lì l'impaginazione globale guardate io adesso lo porto su due pagine su due pagine no lo voglio vedere così al cento per cento su due pagine c'è qualcosa che non funziona perché su una pagina più o meno ma su due pagine ci sono pochi spazi bianchi cioè dobbiamo secondo me aggiustare un po' la cosa quindi ci dobbiamo occupare della struttura generale in questo caso con pages andrò a documento il formato è una 4 va benissimo però intestazione intanto non mi serve l'intestazione il piedipagina sì lo potrei tenere per che sarebbe questo il piedipagina no? per inserire i numeri delle pagine boh va bene inseriamo un numero di pagine ok quello che mi interessa però sono i margini del documento quindi margine del documento il margine superiore lo porto a 3 o 4 centimetri lo abbasso un po' il margine inferiore anche lo porto a 3 quindi lo alzo un po' i margini laterali li posso portare tra i due e mezzo i tre i tre e mezzo una cosa così mettiamo 3 mettiamo tutto 3 tanto per avere un'idea ecco abbiamo già un'impaginazione migliore però forse qui lo metto addirittura a 3 e mezzo ok così dobbiamo ragionare un po' sugli spazi direi che così va meglio anche qua 3 e mezzo Alberto ti piace il giustificato? no non mi piace e tra l'altro l'e-pub ma io a sinistra allineata a sinistra l'e-pub poi non lo tiene non lo tiene cioè è il come si chiama è il lettore che decide se è giustificato in centro eccetera per il tuo pdf invece puoi vedere se a te piace lo preferisci naturalmente non so se Patrizia lo sa ma suggeriscono di non fare il giustificato per lo so perché è più facile da leggere il giustificato a sinistra sì a me piace di più è più però però voi lo potete anche giustificare nel pdf rimane giustificato nell'e-pub sarà sempre il lettore che decide come leggerlo chiaramente bene funziona tutto questo adesso creiamo il modello che è uno sfizio per comunque poi considerare di utilizzare sempre le cose in page si fa così si fa in file e in file c'è scritto salva come modello può darsi che in word si esporta come o qualcosa del genere no no era salva c'è pure salva non so se è il salvagonnome però sì salvagonnome lo salvi come modello lui ti chiede lo aggiunge ai modelli cioè a quelli che abbiamo visto quando crei nuovo nuovo che appaiono tutti i modelli come avessi visto prima sì aggiungilo ai modelli ma ma questo è il bello lo puoi salvare a parte se tu lo salvi a parte e i tuoi studenti in classe usano per esempio pages oppure usano word nel caso in cui tu lo faccia con word tu puoi creare un modello di relazione di compito di schede di quello che vuoi tu di osservazione sul territorio quello che ti pare puoi creare tanti modelli distribuire dei tuoi studenti e abituarli di lavorare in questo modo su word si prende dal menu a tendina quando fai il tablo dei formati viene fuori modello di word modello di word sono sì sì ok bene una cosa c'è da dire va che aggiungiamo anche questo già che ci siamo vedete questi titoli no quando aveva sei anni va bene questi titoli devono essere io ho qui nella funzione di formattazione altro devono essere tenuti insieme con il prossimo paragrafo attenzione il controllo delle vedove delle orfane non dovete mai separare un titolo questo non per l'e-pub perché l'e-pub ragiona a modo suo quindi se il soggetto il lettore aumenta molto il font può anche darsi che un titolo vada però intanto se voi lo tenete agganciato questo non succede neanche nell'e-pub perché l'e-pub considera questo fatto nel pdf anche perché poi scorrete il vostro libro e vi trovate con con questo possibilità che ci sia un titolo qui a fondo pagina e il testo invece il paragrafo quella successiva mi spieghi bene cosa significa questa cosa del levatore delle orfane perché l'ho capito solo intuitivamente cioè l'ho sentito vuol dire che vuol dire che in un caso tu hai tiè hai un ecco tu hai un paragrafo che finisce così va bene con una riga pagina bianca oppure oppure hai oppure hai adesso qui creare questo più dunque oppure hai facciamo così vediamo se funziona ecco oppure hai un titolo una riga sola questo può succedere con le tabelle con le immagini che ti sbaravano un po' sì ecco tenete conto che l'ipub mantiene la formattazione delle tabelle griglie eccetera però ve le può mandare le può spezzare le può spezzare tra due pagine per esempio una tabella molto ampia può essere divisa in due parti su due pagine perché è sempre l'utente che decide come vedere dunque il trucco per rendere leggibile una tabella anche su più pagine è di fare in modo vedete qui qua così è di fare in modo che ci sia un'intestazione intestazione della tabella cioè questa non è una cella qualsiasi è un'intestazione quindi un'intestazione laterale di una colonna poniamo che questa sia invece un'intestazione di riga sarà un'intestazione di riga di una colonna quindi nel momento in cui la tabella viene spezzata lui ripete l'intestazione quindi la tabella diventa leggibile segnatevelo questo è una cosa importante basta noi siamo a posto che cosa dobbiamo fare è creare l'e-pub da page posso chiedere due cose per concludere che mi sono rimasto un po' non so se me lo sono perso io avevamo formattato anche l'autore con uno stile suo era forse rimasto in sospeso no si era rimasto in sospeso l'autore si potete creare un suo stile adesso vediamo un po' cosa abbiamo qui abbiamo un corpo citazione qua il corpo citazione va anche abbastanza bene perfetto e poi casomai l'aumento un po' il font così tanto questa parte qui è solo una ripetizione della copertina perché ci starà la copertina anche questo ti volevo chiedere infatti per la copertina siamo noi che dobbiamo dare una pagina bianca quella pagina bianca iniziale come la dobbiamo creare o è una cosa che ci dici dopo no questa la vedremo poi la copertina dobbiamo fare due ragionamenti la volta prossima è una cosa semplice ci dedichiamo un quarto d'oro intanto però vi posso dire che quello che potete fare per la copertina è che voi trascinerete sulla prima pagina la copertina quindi può essere anche un'immagine così per dire poi qui togliamo sezione qui fate una cosa di questo genere per dire no cioè potete dare già una formattazione a questo punto in questo modo inserire un'immagine così voi avete già una copertina così perché perché quando create l'e-pub lui considera la prima pagina una copertina quindi trasforma tutto questo in un'immagine e non è male oppure alternativa create proprio una copertina adesso ve ne propongo una di un altro libro ma non importa perché ce l'ho pronta un altro libro qualsiasi eccola qua perfetto questa questa io la trascino sulla prima pagina guardate che cosa faccio faccio collimare gli angoli poi la trascino per tutta la pagina così automaticamente basta questa però l'ho creata graficamente anzi non è anche fatta io ma comunque è creata graficamente sono le due alternative alternativa semplice scegliete una bella immagine la collocate come volete non c'è qui qui non c'è nessun bisogno di inserire stili di immagine in mezzo al testo eccetera tanto rasterizza tutto oppure alternativa copertina grafica va bene adesso facciamo così quindi chiudiamo con questo e poi vi dico che cosa portate per la prossima volta se riuscite allora esporta come e questa è l'operazione proprio semplice esporta come esporta come ePub e qui veramente viene fuori la genialità di questa applicazione non devi fare niente devi dargli un titolo l'autore qui usa la prima pagina come immagine di copertina oppure scegli un'immagine no ma noi usiamo sempre questa perché anche quando abbiamo creato la nostra copertina poi la inseriamo qua poi dobbiamo dirgli la categoria ma questo è utile solo marginalmente però comunque perché poi naturalmente gli store come vi spiegherò usano altre cose comunque diciamo istruzione cosa è narrativa cerchiamo qualcosa qui qui dove narrativa eccolo qua poi usa l'indice va bene non l'abbiamo creato l'indice comunque prossima volta lo facciamo incorpora i font importante perché così per i reader che riescono che hanno questa funzione vengono mostrate anche i font che voi avete scelto e basta salva salva vediamo dove se lo mettiamo sulla scrivania va benissimo prova impaginazione perfetto ok lui ti dirà che ci sono alcune impostazioni che non sono state ritenute certo come per esempio i numeri di pagina oppure i piedi pagina queste cose qua logico perché non è compatibile no? text reflow quindi e adesso abbiamo il nostro lavoro nella scrivania lo apriamo dov'è che prova impaginazione i pub benissimo doppio clic si apre si apre con libri eccolo qua si apre con libri ce l'abbiamo qua prova impaginazione e voilà l'indice l'ha fatto lui sulla base degli stili ma in realtà solo questo giusto poi ve lo spiego poi abbiamo la dedica abbiamo il capitolo 1 quando avevo 6 anni vedete che mantiene abbastanza quello che abbiamo creato ecco ciò così è più normale più da libro eccolo qua la nostra immagine la tabella sì non siamo andati avanti a formattare di altri capitoli però questo è il risultato e vedete che la copertina è apparsa anche proprio come cover nel libro non è neanche male tra l'altro semplice pulita per chi non vuole cementarsi con applicazioni grafiche o fare cose strane è fantastico anche questo ti posso chiedere una cosa sì però adesso scusa voglio solo dire questo voi avete il capire il podcast esempio capire il podcast esempio e qui avete tutti gli stili creati bene formattazione dove è testo eccolo qua vedete qui avete tutti gli stili tutti gli stili che poi voi potete utilizzare e modificare quindi potete anche provare a prendere questo layout che è già impostato con grande precisione e poi adattarlo al vostro sistema al vostro stile vi consegno però anche quello che abbiamo fatto oggi così in ogni caso ce l'avete sia in formato pages che word sì dimmi dimmi tutto allora due cose noi che abbiamo word quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere questo lo vediamo alla volta prossima caricherete semplicemente sì la creazione dell'e-pub era lasciata la volta successiva adesso l'ho fatta perché così magari qualcuno di voi si può già cimentare solo che a pages noi aspettiamo la prossima volta no voi fate così ve lo dico a voce voi aprite il documento con pages per iCloud lo apriamo direttamente lui lo riconosce lo aprite direttamente anche se word è quello che è certo voi lo importate lui lo apre riconosce tutti gli stili casomai vedete di aggiustare due cose sull'immagine che avete dei problemi vi ricordate potete fare una messa a punto di quel genere lì e poi da lì lo registrate come e-pub e siete a posto ok quindi in quel caso per chi usa word o altre applicazioni pages servirà solo come strumento di conversione attraverso la modalità cloud l'ultima cosa che ti volevo chiedere visto forse la risposta già la so ma ti chiedo per conferma visto che di fatto questi non sono libri cartacei ha qualche utilità rispettare quella regola che tanti libri hanno soprattutto di narrativa per cui il capitolo deve cominciare sempre sulla pagina dispari quindi sulla pagina destra non ce ne frega niente per l'ipub non ce ne frega assolutamente niente per il pdf se voi volete potete utilizzare questo io come autore alle volte a me piace che inizi in quel modo così ma solo perché per una questione estetica personale che a volte mi piacciono le cose così ma non ha nessuna importanza in realtà per l'ipub no sì no per l'ipub assolutamente anzi direi meglio il contrario perché creare delle pagine vuote le pagine bianche le pagine bianche tu puoi anche disorientare il lettore ok a posto grazie anche io avrei un'ultimissima domanda scusate sì il tuo file word quello appunto del podcast dove dovrebbero esserci tutti gli stili non so se è un mio problema ma io l'ho dovuto aprire e poi ho dovuto salvarlo perché non mi abilitava le modifiche neanche dando la spunta a mettere però poi non mi fa vedere i tuoi i tuoi stili cioè è come se fosse tutto sì sì le persone con cui collaboro che aprono i miei file di pages così sì certo come mai questo non capita il tuo file docs docs sì quello lì certo lo aprono tutti lo aprono sì 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 perché io negli stili vedo soltanto quelli di 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 word no no devi vedere anche quelli cioè indipendentemente su quale mi metto è come se fosse tutto normale per lui strano vabbè ok strano ma capita sentiamo anche altre persone casomai su questo tema non capisco se è un problema è curioso a meno che non abbiano sia cambiato ah no no ok ok ho capito bisogna spuntare fleggare sulla sulla diciamo la finestra di dialogo per degli stili ah sì sì è vero che c'era c'era certo c'era questa finestra di dialogo in word sì 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 bene e lì bisogna spuntare visualizzante prima altrimenti i tuoi stili non si vedono no questo anche per gli altri che se magari sì io che ancora non l'ho completato il pages siccome lo salvo dove lo trovo poi non ho capito scusa non è salvando l'ora la pagina poi dove la trovo no quale pagina scusa non ti ho seguito la pagina di pages dove la trovo poi quella che abbiamo impaginato oggi eh la devo inserire in classroom tra dopo cena lo faccio no ma io non l'ho finita no devo riguardare perché sono rimasta ah quello che voi avete finito adesso io dopo cena creo un deposito vi scrivo e voi avrete un deposito dove consegnare i vostri lavori prima di venerdì così ci io poi magari riguardo la registrazione quindi rifaccio il lavoro bene esatto sì sì ci possiamo dare un'occhiata anzi ci daremo sicuramente un'occhiata siete tanti non possiamo vedere i lavori di tutti uno per uno però diciamo qua e là a campione oppure su vostro suggerimento guarda il mio che è una figata pazzesca o guarda il mio che non ci ho capito una mazza insomma cose di questo genere le potremmo aprire e guardare intanto il risultato della trasformazione in ePub lo potrete vedere voi stessi perché nel momento in cui realizzate l'ePub potete controllare come il lettore lo visualizza invece cercare un vostro stile questa è una cosa che vi richiederà più tempo se non l'avete fatto il fonte che vi piace il fonte che vi rappresenta i colori che vi piacciono e che vi rappresentano beh questo questo è un terreno che richiede che richiede del tempo però sul quale vi invito così a lavorare perché è bello anche che non solo un autore ma un insegnante abbia il suo stile cioè quando consegnate qualche cosa ai vostri studenti create dei documenti eccetera sia evidente il fatto che l'abbia fatto costruito Serena Antonio Silvia Alessandro ognuno con le sue modalità che poi si ripetono nel tempo giusto? cosa dico? ti sembra corretto? sento uno spignattare abbiamo anche un po' sforato per me non c'è problema a sforare per me fino a mezzanotte solo che le persone poi se ne vanno quindi una buona serata va bene buona serata a tutti grazie mille Alberto bene